va bene allora abbiamo oggi la sessione che interessa la etichettata come salute mentale però volevo sottolineare un elemento c'è una continuità netta tra le due giornate precedenti e quella di oggi le due giornate precedenti abbiamo visto le dichiarazioni dei testimoni di tante forme di malessere malessere che diciamo si sono espresse a vari livelli malessere contro la giustizia che non c'è malessere sociale e abbiamo visto alla fine la testimonianza del genitore di quella vittima della strage di viareggio che dopo 40 giorni ha visto spegnersi la vita di sua figlia ebbene oggi parleremo della sofferenza mentale ma questa è anche sofferenza mentale e l'indicazione importante che abbiamo avuto da quel genitore è che lui ha superato quella sua crisi interna con un percorso di lotte lui ha detto se non incontravo Antonini e i compagni di viareggio adesso probabilmente non mi sarei dato pace invece lui ha avuto questo sbocco positivo quindi in qualche modo noi dobbiamo cercare di convogliare il malessere verso i sbocchi positivi di trasformazione quindi c'è continuità tra la giornata di oggi e le due giornate precedenti questo è il nostro compito come medicina democratico vogliamo sostituirci a a psichiatria democratica e associazioni sì va bene quindi abbiamo delle relazioni interessantissime iniziamo subito mi collego a quanto appena detto proprio perché ci tengo moltissimo anch'io a sottolineare la continuità fra i temi legati alla salute e è importantissimo oggi parlare non di psichiatria ma di salute e in particolare salute mentale ma lo vedremo poi cosa si intende con questo e al tempo stesso è importante riconnettere le azioni le azioni anche di lotta per rivendicare i diritti delle persone che soffrono ma anche delle persone che si vogliano prendere cura delle persone che soffrono al di là di questo credo anche importante il dialogo con altri movimenti altre associazioni quindi è stata citata psichiatria democratica non hanno potuto prendere parte a questa nostra mattinata ma hanno dato il loro sostegno e credo importante anche la rappresentanza che oggi è data da alcune figure che via via andremo presentando che anche se in questo momento da remoto per chi ci segue comunque anche loro presenti proprio perché questo sia solo un momento una prima tappa dove ritrovarsi e dove anche dentro medicina democratica è ridare vita un dibattito oggi sempre più importante da riportare fuori sia all'interno del mondo della scienza un po' come si diceva anche sia nel mondo delle aggregazioni che oggi abbiamo anche la fortuna di avere con noi due figure anche proprio torinesi due persone che ci daranno mano anche a capire cosa ad esempio succede in questa realtà in quanto forme organizzative che diano anche delle risposte come si suol dire dal basso credo poco al basso e dall'alto come divisione categoriale credo molto di più nella contaminazione di esperienze e di competenze e le competenze non sono soltanto quelle che si imparano all'interno dei consessi universitari e che si insegnano lì dentro quindi con molta gioia do il benvenuto in questo contesto ad aprire questa sessione che spero ricca di stimoli e sollecitazioni anche a dibattere dibattere soprattutto nel pomeriggio stamani ci sarà poco tempo sarantis tanopulos società psicoanalitica italiana il titolo del suo contributo è per una epistemologia rigorosa nel campo della salute mentale grazie mi scuso intanto per non poter essere in persona non mi piacciono gli interventi online naturalmente era una questione di rispetto nei vostri confronti e anche di affettuosa vicinanza che io faccio questo intervento preferisco di gran lunga il discorso da vicino e spero una prossima occasione purtroppo diversi complicati impegni istituzionali mi hanno incastrato hanno impedito di arrivare a torino cosa che era un mio forte desiderio parlerò appunto a partire della crisi epistemologica della medicina in generale crisi che è preoccupante trovo sempre difficile parlare contro ciò che è un confermismo linguistico che poi anche un confermismo di pensiero a partire dai famosi evidence based data che stanno imponendo una dittatura di pensiero ma che in realtà sono un discorso assai banale e scientificamente per nulla valido un dato basato sulla prova o sull'evidenza prova evidenza a seconda dei due significati che nella lingua inglese si può dare al termine è una cosa abbastanza ambigua ma mi permettete di dire che una cosa provata è di per sé un dato una cosa che non è provata è un'ipotesi viene dalle case farmaceutiche è ben noto questo termine non viene da un discorso teorico epistemologico medico io somministro un farmaco e aspetto che abbia un effetto se questo effetto che mi aspetto c'è effettivamente questo è un dato e se non ce l'ha questo effetto anche questo è un dato ora la questione è quindi che rapporto c'è tra un dato e l'ipotesi e se vogliamo essere più rigorosi tra il dato e la teoria perché ogni dato va interpretato interpretato da una teoria e non solo le teorie possono essere validate o invalidate dai dati o dobbiamo pure supporre un'area di indeterminazione ammessa nella scienza della fisica e tutte le serie serie non capisco perché la medicina dovrà rappresentare un'eccezione a questa importante acquisizione epistemologica perché la medicina segue la strada della certezza della certezza e della concretezza quindi quando insistiamo a dissociare la teoria dal dato impoveriamo molto il nostro modo di pensare e penso che sia evidente per tutti e anche per i medici che si occupano di epistemologia che il patrimonio teorico della medicina è molto impoverito è aumentato a dismisura il suo patrimonio tecnico non c'è nulla contro la tecnica ma la tecnica non può sostituire la teoria non può sostituire la libertà del pensiero perché altrimenti saremo sempre di più nel paradigma ottico di vedere sempre meglio e fare sempre meglio quello che già sappiamo ma non avremo la possibilità di aprire altri origini questa prevalenza del tecnico a scapito del pensiero teorico nella medicina è di fatto una condizione che rende la medicina oggi una scienza povera democraticamente quindi è una questione di democrazia abbiamo bisogno di una medicina che pensa che pensa nuove cose che disloca lo sguardo e non soltanto di una medicina tecnica che può fare ottime cose ma anche per tornare alla questione fondamentale della salute mentale fondamentale per la medicina stessa noi abbiamo bisogno che la tecnica sia al servizio dell'esperienza e la tecnica non potrà mai diventare padrona dell'esperienza per fare un esempio importante che spostando la cosa su piano psichico sa bene che le notizie cattive viaggiano con più velocità e hanno più accoglienza delle notizie buone e che i messaggi aggressivi viaggiano con più velocità e hanno più successo dei messaggi che non sono aggressivi questi sono dei dati ora perché a questo accade questi dati sono importanti significativi per certi aspetti sorprendenti per altri no però come li spieghiamo ecco abbiamo bisogno di una teoria abbiamo bisogno di connessioni complesse di connotere un sapere con un altro sapere quindi questi dati possono essere spiegati perché il messaggio della cattiva notizia ha in termini di precarietà l'importante funzione di compattare il sistema psichico e quindi creare una falsa sensazione di sicurezza quindi viaggia velocemente compatta difensivamente e crea una sicurezza il messaggio aggressivo è straordinario nel permettere di scaricare le emozioni tutte le volte come nella nostra società accade c'è un ingorbo emotivo perché non c'è la possibilità di sedimentare elaborare le nostre emozioni e quindi su questo vorrei anche spiegare la mia presenza qui e anche la mia presenza nel manifesto della salute mentale io mi auguro che questa esperienza ci permetta anche di stabilire dei legami più solidi più significativi più stabili tra voi il manifesto della salute mentale e perché la società psicoanalitica italiana si impegna in questa direzione anche per pagare debito e anche per riconoscere le difficoltà del passato le incompressioni tra forze che dovrebbero essere naturalmente alleate nei confronti della alienazione e che invece si sono chiuse nella reciproca incompressione vi leggerò quindi un pezzo di cornelius castoriadis scritto nel 1990 dice l'apporto della psicoanalisi alla comprensione del mondo umano assolutamente fondamentale ci mostra chiaramente che non sono considerazioni di interesse economico né fattori razionali a dominare le motivazioni degli umani e a permettere di comprendere il loro comportamento viceversa questo è l'appunto della psicoanalisi la psicoanalisi continua nel 1990 a voler ignorare il ruolo fondamentale di distinzione sociale nella socializzazione degli umani e a pretendere di poter derivare le istituzioni e i significati sociali a partire dalle tendenze profonde della psiche e che costituisce un non senso l'urimo ma la psicoanalisi aggiunge castoriadis può e deve fornire un contributo fondamentale a una politica dell'autonomia perché la comprensione di sé è una condizione necessaria dell'autonomia non può esserci una società autonoma che non riflette su se stessa che non si interroga sulle sue motivazioni le sue ragioni di agire le sue tendenze profonde quindi l'impegno della stessa psicoanalisi è questo di recuperare terreno e di pagare un deputo che ha nei confronti della sua stessa disciplina nei confronti delle altre discipline per un comune interesse di cittadini in primo luogo della democrazia che non può essere più rinviato o dilazionato a caso di qualsiasi diciamo così attoreferenzialità perché dobbiamo pure riconoscere che il problema della sofferenza psichica grave e distrutturante interroga tutti nessuno ha una risposta che lo possa normalizzare nessuno lo deve normalizzare piuttosto dobbiamo verificare insieme qual è il grado della nostra capacità di farsi destabilizzare distrutturare da un discorso che non comprediamo perché abbiamo costruito il nostro discorso che lo esclude e quindi di accettare dentro di noi la necessaria trasformazione del nostro assetto emotivo e mentale che ci permette di allargare l'orizzonte della nostra presa sul mondo allora da questo punto di vista chiuderei con due cose che a mio avviso sono molto importanti una è il sostegno nella comunità non esiste che una persona che soffre che vive un'assistenza la serata venga curato impersonalmente al di fuori del luogo in cui vive deve vivere nella sua comunità essere preso in cura piuttosto che curato nella sua comunità deve essere inserito culturalmente politicamente socialmente lavorativamente nella sua comunità ma attenzione questo inserimento non è unilaterale non significa che noi li sostegniamo perché entrino a stare tra gli altri significa sostenere anche la comunità qualcosa che noi che era nel patrimonio della riforma basale ma che è stata accantonata sostenere la comunità nella sua sofferenza nella sofferenza della comunità e non delle singole persone aiutarla a riconoscerla questa sofferenza aiutarla a elaborarla aiutarla a superare elaborare e superare il suo asseto difensivo nei confronti della diversità penso che queste cose sono fondamentali perché se non facciamo questo lavoro il lavoro comunitario si debolisce e cambia il significato l'altra cosa che dobbiamo pure riconoscere e questo dà anche alla salute mentale al sistema della salute mentale una particolarità questa quella di lavorare sul piano diciamo così scientifico rigoroso ma anche in un piano eccentrico al principio logico della non contraddizione questa antinomia è fondamentale è la nostra caratteristica e è quello che rende interessante il nostro lavoro e quindi tenere presente che non possiamo considerare queste situazioni esistenziali difficili dolorose e di emarginazione nel termine di una malattia da risolvere e non possiamo immaginare che il cosiddetto disordine mentale deve essere in qualche maniera normalizzato e inserito in modo consone al nostro modo di relazionarsi dobbiamo farsi interrogare da questa diversità dobbiamo ascoltarla e soprattutto dobbiamo tenere presente che una cosa fondamentale della cura è quella di restituire qualità di vita cioè diritto di sentirsi vivi di sentirsi espressivi e creativi alle persone al di là e nonostante la loro sofferenza psichica cioè non dobbiamo pensare che dobbiamo curarli renderli più normali perché loro possono godere della vita devono godere della vita e dobbiamo occuparsi di questo senza pretendere che il loro discorso cambi e diventi omogeneo a nostri perché se c'è qualcosa di importante in questa disparità di linguaggi è che questa diversità rende evidenti chiari e significativi tutti i vuoti di comunicazione tra di noi da questo punto di vista siccome c'è un dibattito a cui concludo oggi cioè questi giorni su quotidiano sanità a partire da un libro di Ivac Avicchi 8 alla 180 noi siamo d'accordo che la 180 va in qualche maniera rinforciata e portarla oltre però significa farla vivere la 180 è un come dire una straordinaria conquista di civiltà relazionale umana non si può andare avanti a prescindere da questo certo bisogna andare oltre in che senso che bisogna darle la forza propulsiva che è venuta a meno tenere presente che abbiamo bisogno di una idea complessiva della cura di dare forza ai diritti sociali culturali civili politici è importante ma è anche altrettanto importante è come dire dare spazio alla libertà e alla creatività delle persone sofferenti è molto importante provvedere ai loro bisogni materiali ma dobbiamo prestare attenzione anche ai loro affetti e ai loro desideri e poi è molto importante l'inserimento vero non ipocrita non diciamo così omologante nella comunità in cui si vive ma altrettanto è importante ascoltare la richiesta di legnimento del dolore e soprattutto della sua elaborazione vi ringrazio molto per questo invito e spero che avremo l'opportunità indipendentemente anche dai convegni di riaprire un dibagio perché questa seconda stazione del manifesto della salute mentale che è la più importante mira al più vasto coinvolgimento di tutte le forze un coinvolgimento paritario perché il manifesto non è un organo non è una forza politica sono delle idee che noi sentiamo di condividere con tutti e di elaborare con tutti grazie grazie davvero moltissimo per questo contributo che apre proprio con tutti i contenuti che dobbiamo e vogliamo con gran forza e determinazione promuovere quindi come tenere insieme davvero un'azione politica che rispetti la concezione della cura intesa proprio nei termini non di restituzione di una sorta di normalità definita poi da chissà quali presupposti a teorici spesso e a scientifici ma come ridare delle risposte per cui le persone possano al di là o tenuto conto anche delle loro sofferenze o disagi ritornare a vivere dentro una dimensione di collettività e di comunità oggi niente affatto scontata oggi più che mai credo anche io che bisogna andare al di là della dimensione della celebrazione diciamo così della 180 ma stiamo anche negli elementi di criticità e credo che già tu ci abbia aiutato a come dire dare delle pennellate rispetto ad un dipinto che dovremo un po' forse costruire insieme anche un po' destrutturando certi contenuti in questo senso credo che il contributo di Maria Grazia Gianni Chedda Fondazione Basaglia possa essere davvero in continuità e questo voleva essere un po' anche la sollecitazione da parte di chi ha organizzato questa mattinata quindi passando da questo contributo andiamo sul successivo che è proprio intitolato le mutazioni del sistema psichiatrico scenari attuali e prospettive per una salute salute pubblica mi sentite a posto allora buongiorno mi dispiace tanto non essere con voi ma appunto come vi ho detto è stata come dire un'emergenza personale che mi ha impedito di partire mi dispiace perché da un lato detesto oramai questi convegni via zoom e invece trovo importantissima l'interazione anche fisica con le persone il sentire però neppure volevo perdere questa occasione di parlare con voi mi pare l'intervento che mi ha preceduto come dire mi aiuta mi apre la strada perché quello che io vorrei fare è un discorso che Saranti se posso l'ho anche detto ad un altro paio di amici che hanno scritto il manifesto a me sembra che nel vostro manifesto manchi un po' ed è questo il confronto che ahimè è crudele con la realtà dei servizi di salute mentale nel nostro paese cioè credo che qualunque cioè se non vogliamo fare giochini verbali post 180 oltre la 180 e se non vogliamo fare soprattutto celebrazioni come dire pretendo il mio onoro di non averne mai fatte in questi 40 anni anche se so che ce ne sono state molte alle quali ad alcune ho purtroppo partecipato facendo sempre la figura della cattiva vecchia ragazza ecco credo che preliminare appunto ad evitare che il superamento della 180 i tempi cambiati eccetera facciano una grande confusione credo che preliminare sia il confronto con la realtà con la realtà dei servizi in Italia allora la realtà inoltre questo confronto mi sembra importante per avere delle prospettive di azione culturale e politica ma è anche importante perché se non ci si confronta con il come dire con le caratteristiche con lo scenario con il sistema dentro il quale si opera si rischia una cosa che secondo me è molto presente soprattutto negli ultimi anni che chi cerca sicuramente qui ci sono delle persone io stessa faccio parte poi di gruppi di cui queste persone fanno parte cioè chi cerca di lavorare in una certa logica in un certo modo secondo i valori che Sarantis adesso ha illustrato molto bene rischia di essere come dire privato di ossigeno se sta dentro un sistema che in modo ormai secondo me strutturale sta andando in tutt'altra direzione l'allarme per me non è legato a questo cambio di governo l'allarme sulla situazione sul degrado dei servizi di salute mentale noi come coordinamento salute mentale lo abbiamo fatto già prima del covid e sicuramente nel periodo del covid questo questo degrado attuale diciamo ha sicuramente come dire siamo dentro un piano inclinato il degrado ha subito un'accelerazione perché il definanziamento dei servizi della salute in generale in generale sia in valore assoluto che in percentuale sul pil è andato avanti in questi anni e dentro il definanziamento della salute la salute mentale è stata ulteriormente definanziata c'è stato sicuramente lo stress del covid ma il covid non ha peggiorato i servizi di salute mentale come non ha secondo me peggiorato i servizi sanitari ha evidenziato in modo plateale alcuni limiti cioè o meglio più che alcuni limiti i loro limiti strutturali un esempio i servizi di diagnosi e cura nel nostro paese da sicuramente negli ultimi vent'anni sono tutti sono la gran parte esclusi 20 20 25 sono tutti con le porte sempre chiuse i servizi i centri di salute mentale porte chiuse porte aperte bassa soglia poche a bassa soglia spesso ci si arriva con filtri eccetera eccetera cosa è successo con il covid che anche i servizi di salute mentale hanno chiuso le porte profittando del fatto che era necessario mettere uno schermo mettere un filtro che si aggiungeva il filtro del covid agli altri infiniti filtri burocratici e culturali che sono stati messi in questi anni nei centri di salute mentale che sono stati trasformati da centri di salute mentale in ambulatori di salute mentale che è tutta un'altra cosa ho usato la parola sono stati trasformati questa parola è in parte sbagliata perché in alcune regioni questa non c'è stata una trasformazione in Lombardia questo modello è il modello che è stato sposato fin dall'inizio l'ambulatorio da un lato posto letto dall'altro il problema per dire è l'esempio più eclatante ma non in solo quello della Lombardia però cos'è successo in questi ultimi anni e anche per un insieme di ragioni che ora è troppo lungo elencare è successo che questa che inerzialmente tutti i sistemi regionali sono andati in questa direzione anche quando non lo si voleva anche quando c'erano delle e ci sono delle come dire delle delle resistenze culturali perché si dice che non deve essere così per esempio pensate a tutta l'enfasi che si è fatta durante il post covid durante il covid sul territorio tutti a riempirci la bocca dell'importanza del territorio persino Draghi nel suo discorso di insediamento parlò noi rimanemmo essere fatti e felici relativamente parlò dei servizi di salute mentale come presidio e noi diciamo ma donna si è accorto che esistono i servizi di salute mentale un presidente di consiglio bene tutto questo non solo è rimasto parole ma lo scivolamento in giù dei servizi di salute mentale come CIM come erano i CIM ambulatori di igiene mentale è continuato in contrastato in contrastato le regioni naturalmente sappiamo che noi abbiamo 20 repubblichette sanitarie quindi non tutte le regioni sono uguali però ci sono alcuni elementi avvertimi quando mancano qualche minuto perché mi sono infilata dentro un discorso complicato però ci tenevo a farlo e 10 minuti sono pochi per farlo volevo citare un paio di elementi che a mio parere dicono che oggi le categorie di disapplicazione della legge di necessità di riaggiustamenti sono se non sbagliate sicuramente insufficienti e dobbiamo liberarceli oggi è in atto non da oggi tra l'altro oggi è visibile una mutazione del sistema psichiatrico e insisto psichiatrico perché trovo che spesso la parola l'espressione salute mentale è usata come understatement è ancora un sistema sostanzialmente psichiatrico nel quale è avvenuta una mutazione noi dobbiamo confrontarci con questa mutazione appunto volevo citarvi un paio di elementi che mi fanno dire che non si tratta solo di politiche sbagliate allora in questi giorni a Torino si è discusso di una cosa apparentemente minore un gruppo gli operatori sono andati dal magistrato tutelare per eccepire un provvedimento che la regione ha preso e che consiste la faccio porta rapidamente e che consiste nel fatto che quando una persona si allontana senza permesso e senza preavvertire e senza una buona ragione dalla struttura in cui sta e non sto parlando di diagnosi e cura ma dal appartamento dalla comunità dall'abitazione protetta i modi per chiamarla sono infiniti gli operatori devono sono obbligati a chiamare la polizia i direttori dei dipartimenti di salute mentale hanno accettato questo forse qualcuno ha borbottato ma l'hanno accettato e firmato anche la maggior parte delle associazioni delle varie entità che gestiscono posti residenziali e lo hanno accettato non tutti gli operatori per fortuna lo hanno accettato perché hanno sentito puzza di manicomio in questo provvedimento non solo ma un attentato mi riferisco a discorsi che faceva Sarandi esprima un attentato radicale ad un approccio di presa in carico e di cura perché se una persona scappa perché naturalmente quando uno si allontana senza dirmi perché senza negoziare sta scappando bene se una persona scappa è un messaggio no? me lo insegnate voi e questo messaggio il servizio deve prenderlo e deve ragionarci sopra no? questo provvedimento dice deve l'operatore è obbligato a informare l'operatore che tra l'altro spesso è anche un OS eccetera eccetera bene uno secondo già da un paio d'anni fa ecco questo elemento non è io mi sono ci siamo informati poi questo provvedimento in diverse forme esiste in molte altre regioni in alcune regioni per esempio la regione per esempio nella regione Lazio ma esiste anche qui un provvedimento similare ma esistono di fatto dei non detti delle pratiche rutinarie che non sono scritte in una determina non sono scritte in un provvedimento ma che di fatto sono così si arriva pure a chiamare la polizia in un diagnosi e cura per una persona ricoverata nel diagnosi e cura e non in misura di sicurezza quindi grande secondo me grande ritorno dello schema custodiale nel caso delle residenze questo ritorno è pericoloso a sé e quindi per protezione in altri casi può essere più francamente sulla pericolosità sociale ma comunque questo è un elemento ormai strutturale che si è inserito nei servizi secondo altro esempio il taser la pistola elettrica allora qualche anno fa a me è capitato di fare un dibattito piuttosto duro con l'assessore a Cagliari poco prima del covid era questo con l'assessore della regionale alla sanità io ho lamentato in questo caso il fatto che fosse stato appena approvato dal comune di Sassari il nuovo regolamento di polizia che è autore di polizia municipale che autorizzava l'uso del taser quando si trattasse di realizzare un trattamento sanitario obbligatorio l'assessore si è arrabbiato e mi ha detto impossibile una cosa del genere sarebbe illegale dopo la pausa a caffè sono tornata con il provvedimento l'assessore se ne è andato via come dire lui ha dovuto fare autocritica ma purtroppo ho dovuto farla anch'io perché poi ho scoperto cercando che in diverse città le regioni i regolamenti di polizia urbana autorizzano l'uso del taser e voi forse ricordate o forse no ma ve lo dico a Genova una persona è morta durante un TSO con l'uso del taser non per il taser ma perché l'aver sparato il taser ha ingenerato un tale livello di angoscia e di violenza tra la polizia e questa persona che alla fine la polizia ha sparato davvero con la pistola vera bene anche questo è un elemento strutturale che si come dire che si aggiunge ai come dire ai diversi elementi che elencavo prima adesso siccome non voglio continuare a fare questi voglio solo aggiungere un altro elemento strutturale che è l'ipertrofia dei posti letto non so quanto voi quanto voi sappiate vi invito a fare questo controllo andate sui siti dei DSM del Lombardo Veneto bene scoprirete una cosa che io dicevo ma non è possibile sto guardando male e controllavo bene si chiamano reparti psichiatrici ma non sono gli SPDC no accanto agli SPDC che fanno quella funzione semplicemente di essere di ricevere quelli che sono stati presi dagli acchiappamati no ci sono anche i reparti che hanno da 20 a 30 posti letto nei quali si può stare più di un mese e non in trattamento sanitario volontario ma ahimè con le porte chiuse e con tutto l'armamentario del reparto psichiatrico bene ditemi se questo insieme all'ipertrofia dei posti assistenziali dove ci sono sia persone con disturbi mentali che anziani e disabili non è un mutamento strutturale allora io ho usato la parola mutazione ma vi risparmio per non perdere tempo perché ho usato mutazione comunque la sostanza del ragionamento è in realtà il dispositivo dell'internamento che la legge 180 voleva abolire non è affatto scomparso semplicemente è scomparso il manicomio come luogo di concentrazione ma non è scomparso come dire è stata tagliata la pianta ma le sue radici non sono state tolte e hanno prodotto tutti questi nuovi getti che secondo me stanno hanno già mutato in maniera radicale le caratteristiche del sistema psichiatrico nel nostro paese quindi altro che andare oltre la 180 siamo andati ben oltre la 180 ma non nella direzione che la 180 auspicava e per la quale noi abbiamo lottato e per la quale insomma che ha ben illustrato Sarantis prima no come dire è andata in tutt'altra direzione la la mutazione del sistema in una direzione esattamente opposta più medicalizzante più in questo caso più nel nostro caso più neurologizzante perché adesso insieme allo psico c'è il neuro anzi che sta prendendo il sopravvento in una maniera a volte imbarazzante ecco vado vado alla conclusione di questo discorso le mie conclusioni i due punti che voglio mettere scusate guardo ecco ah no ecco un altro un altro punto volevo attanto verso la conclusione per poi accompagnare l'intervento di Riccardo che già mi è qui al fianco ti invitavo a concludere in questo senso stavo guardando la conclusione la conclusione è questa per me uno bisogna avere il coraggio di liberarsi delle parole e dei concetti come dire che ci fanno sentire bene e guardare crudalmente e crudalmente la realtà che secondo me è questa guardarla cosa vuol dire però uno superare l'insoddisfazione che abbiamo sulla mancanza di dati qua bisogna costringere il ministero a raccogliere dei dati seri per esempio il dato sui TSO sembra che nel nostro paese se ne facciano pochi 1,6 per 100.000 non è vero se ne fanno molti di più l'altra seconda cosa bisogna ricominciare a fare ricerca a partire dai servizi la terza cosa bisogna rimettersi insieme bisogna rimparare a riragionare insieme ma sull'andamento del sistema non sulle piccole cose cioè perché se noi continuiamo a ragionare sulle cose che facciamo e che sono sempre più piccole però finiamo per essere rinchiusi ma questo Basaglia lo lamentava degli Stati Uniti degli anni 60 negli anni 60 il sistema ma negli Stati Uniti il sistema era completamente diverso viaggiava su logiche violente ed escludenti e poi c'erano i bravi che facevano delle cose ottime ecco noi ci siamo ridotti a questo punto ma i bravi che fanno delle cose ottime se non riescono ad aprire un conflitto e qui mi riferisco soprattutto ai medici con quelli che sono la maggioranza che fanno delle cose pessime e che usano per esempio i farmaci come camicia di forza non ne caveremo piedi quindi guardare analizzare il sistema metterci insieme aprire un conflitto sia prima con gli operatori vorrei dire che con la politica grazie scusate se ho preso più tempo allora parlare dopo diciamo le sollicitazioni di magari a Gianni Ked sono un compito abbastanza improbo però insomma cercherò di dire qualcosa rispetto a quella un po' che è la mia esperienza come come operatore che lavora nei servizi vi confesso che da un po' di tempo a questa parte mi sento sempre un po' più confuso quando devo parlare di salute mentale anche perché l'orizzonte della salute mentale diciamo italiana è cangiante penso che in nessun altro paese del mondo è stato possibile coniugare diciamo la migliore forma di democrazia diretta e partecipata con la peggiore situazione di arretratezza burocratica ed istituzionale in questo senso diciamo il titolo che ho voluto dare a questo mio intervento e cioè salute mentale tra prevenzione e gestione assistenziale può sembrare un po' provocatorio perché come fanno a tenersi insieme due termini così antitetici come la prevenzione e la gestione assistenziale ma io credo in maniera cioè in un solo modo che è quello che sta avvenendo oggi in maniera molto contraddittoria nel sistema diciamo della salute mentale del nostro paese volendo provare diciamo a rileggere un po' gli ultimi quarant'anni di assistenza psichiatrica in questo paese ci si accorge quasi diciamo con un po' di stupore che non esiste una cronostoria di questi ultimi quarant'anni paragonabile a quella che è stata fatta negli anni precedenti alla legge 180 e questo credo per un insieme di motivi che insomma sarebbe difficile adesso spiegarvi qui in pochi minuti ma io diciamo cercherò di pormi e di porvi due domande fondamentalmente rispetto a questo tipo di problema e cioè quale salute mentale oggi è possibile e quale prevenzione oggi è possibile partendo un po' prima domanda quale salute mentale io credo che da questo punto di vista occorrerebbe un inquadramento storico che parta diciamo dall'evoluzione che ha avuto il termine salute mentale negli ultimi quarant'anni un inquadramento che tenga conto però di due passaggi fondamentali che ci sono stati a cavallo tra gli anni 90 e l'inizio diciamo del nuovo millennio degli anni 2000 e cioè l'aziendalizzazione del servizio sanitario nazionale e la riforma costituzionale del titolo quinto sull'autonomia regionale che come abbiamo sentito prima ha in qualche modo completamente stravolto diciamo il servizio sanitario nazionale ha completamente stravolto la riforma sanitaria nei suoi principi di base quelli che erano diciamo pre 1978 e quindi uniformare fondamentalmente la psichiatria alla medicina la malattia alla sofferenza mentale cioè come diceva Basaglia il comportamento al corpo è stato il primo salto epistemologico importante fondamentale compiuto dalle leggi di riforma nel determinare la futura organizzazione dei servizi di salute mentale la salute mentale quindi nasce nell'alveo di una riforma sanitaria che in qualche modo auspicava degli orientamenti e quali erano questi orientamenti innanzitutto il tentativo di un'integrazione socio-sanitaria noi sappiamo bene che questo tentativo è fallito nel senso che non si è mai effettivamente determinata un'integrazione socio-sanitaria nei servizi l'assimilazione del disturbo psichiatrico a tutte le altre malattie si diceva la malattia mentale è in qualche modo uguale agli stessi diritti di tutte le altre malattie la gestione della crisi che poi era confluiva diciamo in quello che era il dispositivo del trattamento sanitario obbligatorio affidato a reparti specialistici negli ospedali generali quelli di cui parlava prima Maria Grazia Gianni Kedda cioè gli SPDC noi sappiamo che il TSO come dire aveva uno statuto che diciamo faceva in modo che il ricovero dovesse essere l'ultima razio il ricovero in reparto dovesse essere l'ultima razio perché doveva essere di norma extra ospedaliero sappiamo bene che anche questo non si è verificato oggi un qualsiasi ricovero psichiatrico è intra ospedaliero quindi anche su questo punto ciò che si auspicava dalla riforma in qualche modo non è stato accompagnato da una pratica diretta poi poi la riabilitazione tutta la questione della riabilitazione la riabilitazione è stata affidata a delle strutture dipartimentali con funzioni temporanee di gestione dell'attività riabilitativa vi ricordate come venivano chiamate le strutture diciamo riabilitative post riforma strutture intermedie e si chiamavano strutture intermedie perché in qualche modo dovevano dare qualcosa in termini di uno sviluppo di qualcosa d'altro che doveva subentrare al posto di queste strutture sappiamo anche qui che questo non è avvenuto le strutture intermedie sono diventate strutture stabili non sono più intermedie come auspicava anche una parte della riforma la formazione anzi devo dire per la maggior parte dei casi oggi sono strutture che in qualche modo per la stragrande maggioranza sono strutture assistenziali a breve media e alta intensità poi c'è stata tutta la questione della formazione dei tecnici della formazione degli psichiatri degli operatori che è stata praticamente lasciata in mano alle istituzioni accademiche all'università pensiamo che l'insegnamento della medicina l'insegnamento della psichiatria ma anche delle scienze umane sono oggi ancora in mano all'università e a una parte diciamo della baronia accademica che naturalmente continua di insegnarla come l'ha sempre insegnata non a caso chi esce dall'università ha una sorta di shock quando poi si trova a dover gestire questa situazione a livello dei servizi perché ciò che si insegna all'università non è quello che poi si incontra realmente nella realtà del confronto con il malato tra parentesi e poi ovviamente la gestione amministrativa dei servizi che è stata affidata secondo la riforma alle unità sanitarie locali e ai comuni e successivamente come sapete dopo l'aziendalizzazione è stata completamente affidata ai bilanci delle sole aziende sanitarie locali in realtà nel 99 il decreto Bindi tentò di diciamo riportare anche ai comuni la gestione di questa situazione ma questa deriva di fatto si è mantenuta tale ed è arrivata a noi fino ad oggi quindi di fronte diciamo a questo tipo di scenario quale salute mentale diciamo possiamo pensare oggi ci sono diverse devo dire diverse chiavi di lettura di questo di questo discorso io proverò a dirvene alcune che in qualche modo ho da una parte sperimentato direttamente nel mio lavoro da una parte sentito attraverso diciamo quello che è il confronto quotidiano con le istituzioni e cioè qualcuno dice che oggi la salute mentale è in un certo senso diventato una sorta di dispositivo biopolitico di controllo e di gestione medico-politica della salute delle popolazioni cioè qualcosa che non ha più a che fare di fatto con la salute intesa come qualcosa che appartiene al corpo sociale appartiene alle persone individualmente ma appartiene anche a un corpo sociale ma la salute come invece qualcosa che si deve determinare statisticamente epidemiologicamente all'interno di un dispositivo diciamo neoliberale economico e statistico pensate per esempio all'utilizzo dei manuali al DSM 5 che è un manuale soprattutto statistico e diagnostico delle malattie e c'è poi un'altra chiave di lettura che è quella che vede la salute mentale come un dispositivo di recupero dell'improduttività residuale di normalizzazione della devianza dei welfare moderni pensate a questa situazione cioè attualmente l'economia politica della salute mentale è la cartina di tornasole dei governi neoliberali occidentali che si parli di salute mentale che si tengano convention internazionali sulla salute mentale che si istituiscano delle giornate mondiali della salute mentale questo ha a mio avviso relativamente poca importanza quello che è importante è che l'economia politica dei decisori è quella che determina l'attuale organizzazione dei servizi la ricaduta sull'utenza di questa organizzazione e sulla sua anche capacità di incitere sulle politiche pubbliche per quanto diciamo ce la vogliamo raccontare dopo 300 anni il potere di determinare come funzionano i servizi è ancora in mano agli psichiatri è in mano agli psichiatri ed è in mano agli amministratori ai loro amministratori che sono i dirigenti aziendali oggi della sanità e naturalmente gli amministratori sono collegati alle varie consorterie politiche ed elettorali che oggi determinano quali sono gli assetti organizzativi all'interno delle aziende sanitarie e quindi anche della salute mentale ovviamente c'è poi un discorso che si lega a quello che dicevo prima cioè all'improduttività residuale del malato di mente che oggi viene chiamato utente dei servizi non a caso e che in un certo senso è stata già in parte recuperata ed è già in parte recuperabile questo lo posso dire anche diciamo per esperienza diretta rispetto a quello che sto vivendo nel servizio dove lavoro ma anche in altre situazioni e cioè c'è una parte di utenza che sta e diciamo anche di organizzazioni associative di organizzazioni dei familiari che è stata già ricoptata all'interno dei servizi è stata già ricoptata all'interno dei servizi poi magari di questo cercherò di spiegarvi meglio che cosa sta accadendo c'è un'altra lettura anche della salute mentale critica che è quella che vede la salute mentale come un dispositivo tecnico amministrativo di gestione e produzione di una normalizzazione performante che cosa significa questa cosa che sembra un termine assurdo significa che fondamentalmente la società attuale è diciamo basata su un livello che determina un piano di efficacia delle persone individualmente che deve essere sempre al massimo deve essere appunto performante le persone devono essere capaci di produrre le persone devono essere capaci di consumare le persone devono essere capaci di essere all'altezza di quello che è l'attuale situazione economica produttiva del mondo occidentale e quindi questo è indubbiamente qualcosa che determina anche dei dispositivi che servono per fare in modo che le persone possano essere performanti e quali sono questi dispositivi sicuramente il consumo farmacologico è una di queste non solo in senso sedativo anche in senso diciamo di attivazione delle persone c'è poi l'ultimo diciamo l'ultimo ragionamento critico che si fa rispetto alla salute mentale moderna e cioè che essa in qualche modo sia diventata una sorta di dispositivo di consolidamento della cultura assistenziale secondo i canoni delle attuali politiche neoliberali come vi dicevo prima il paradosso che si è verificato è che noi pensavamo di fare prevenzione cura riabilitazione e oggi facciamo assistenzialismo dei servizi non facciamo né cura né prevenzione né riabilitazione noi facciamo gestione assistenziale di una serie di situazioni che non siamo in grado di poter sviluppare diversamente allora diciamo che la domanda che viene successivamente a quella quale salute mentale è quale prevenzione domanda difficile a cui rispondere io credo che oggi fondamentalmente la salute mentale abbia senso solo come lavoro diciamo di prevenzione nel senso che gli diede macacaro 50 anni fa voi sapete che macacaro aveva distinto due tipi di prevenzione esisteva una prevenzione diciamo una medicina scusate una medicina preventiva e poi esisteva una medicina predittiva la medicina preventiva agiva sulle cause sulle cause strutturali che erano le cause ambientali i ritmi di lavoro i ritmi di produzione sull'ammalarsi e poi c'era invece la medicina predittiva che era quella che si legava alla diagnosi precoce ecco oggi noi ci troviamo in una situazione diciamo molto simile anche rispetto alla salute mentale esiste una salute mentale predittiva della diagnosi precoce che è quella che viene utilizzata e viene spacciata per prevenzione cioè la diagnosi precoce in psichiatria in salute mentale è spacciata come diciamo prevenzione in realtà in realtà la prevenzione primaria dovrebbe agire su tutte quelle condizioni che impediscono alla persona che ha un disturbo mentale il piano di spiegamento della propria condizione esistenziale il piano di spiegamento delle proprie possibilità e soprattutto il fatto che si possa creare una situazione collettiva di gestione di questa condizione esistenziale non più come problema ma come risorsa stringo ancora devo chiudere addirittura in una parola allora come come cioè rispetto a questo scenario come ci arriviamo alla possibile al discorso sulla salute mentale preventiva allora io credo che oggi in questi servizi sia impossibile pensare ad una salute mentale preventiva penso che una salute mentale preventiva oggi si trovi nei contesti extra istituzionali e dove agisce questa cosa e concludo agisce in tutte quelle forme di cittadinanza attiva ci sono delle forme diciamo embrionali sia diciamo nel nord Italia sia in alcune aree diciamo del sud Italia dove la cittadinanza riprende in mano una serie di situazioni a livello politico organizzativo strutturale di associazionismo che però come dire crea nuovo tessuto sociale crea delle forme organizzate anche di rivalutazione del territorio di riqualificazione del territorio allora queste forme che sembrano lontane della salute mentale sono oggi paradossalmente l'unica forma di prevenzione che determina anche il recupero di tutte quelle situazioni di marginalità sociale che oggi non solo non vengono intercettate dai servizi ma se vengono intercettate di fatto vengono in qualche modo compresse dentro questo sistema attuale quindi l'unica forma realmente di prevenzione è qualcosa che deve ritornare come gestione popolare del problema psichiatrico della salute mentale ma soprattutto della salute generale vi ringrazio siamo qui accanto a me Bruna e Francesco perché iniziamo la seconda sessione e scusate e do la parola anche se dal remoto con molto piacere all'avvocato Gioacchino di Palma non è un caso che chiamo qui accanto a me anche Francesco perché in questi collegamenti diciamo che ci siamo molto sollecitati rispetto all'importanza di portare fuori anche la voce del mondo della giustizia dal basso e anche dall'alto e anche in collegamento con quanto appena sottolineato da Riccardo scusatemi per la mia come dire per la pressione che sento di voler portare avanti tutto il programma lascio la parola a Gioacchino di Palma sì allora buongiorno a tutti vi ringrazio sono in collegamento mi sentite sì sì ok allora buongiorno vi ringrazio anzitutto per avermi invitato a questo vostro convegno mi sentite va bene sì sì si sente benissimo allora vi ringrazio di avermi invitato è la prima volta che partecipo a un convegno di medicina democratica e sono particolarmente colpito dalla comunanza che ho con molto di quanto è stato detto negli interventi che mi precedono sono un avvocato che da dieci anni si occupa di trattamenti sanitari obbligatori e dal 2004 quando c'è stata la legge è stata introdotta la legge sulle amministrazioni di sostegno anche delle amministrazioni di sostegno le persone che entrano nel percorso in qualche maniera psichiatrico qualunque sia il modo in cui vi entrano posso dire con assoluta certezza perché vi posso garantire che conosco non decine ma centinaia di casi di persone che mi chiamano da tutta Italia sono cittadini di serie B per quanto riguarda la tutela dei loro diritti anche di diritti fondamentali quando si entra nel percorso psichiatrico queste persone non hanno più diritti e non hanno soprattutto diritto alla parola perché non vengono ascoltate sono molto più che diritti fragili quelli di queste persone e l'evoluzione che c'è stata in questi ultimi anni tra il trattamento sanitario obbligatorio al quale si ricorre un po' meno e con la spaventosa aumento delle amministrazioni di sostegno ha fatto addirittura aggravare ulteriormente tutte le problematiche le difficoltà proprie della tutela dei diritti di queste persone perché con le amministrazioni di sostegno che attualmente in Italia sono 400 mila ma si stima arriveranno a 3 milioni circa nell'arco di poco tempo cosa succede i giudici tutelari conferiscono al nominato amministratore il potere di cura e attraverso questo diventa ancora più difficile difendere le persone sottoposte ad amministrazione di sostegno perché ancorché non siano state dichiarate incapaci di intendere volere e quindi interdette lo sono di fatto vengono trattati come degli interdetti e gli amministratori di sostegno che chiamiamo amministratori di sostegno che dovrebbero svolgere una funzione di affiancamento nelle decisioni dell'amministrato diventano di fatto i loro tutori voi sapete che il giudice o la sezione del tribunale meglio ancora che si occupa di questa materia tanto del trattamento sanitario obbligatorio quanto delle amministrazioni di sostegno è l'ufficio della volontaria giurisdizione che cosa significa in una causa normale noi abbiamo due o più soggetti che manifestano posizioni contrapposte infatti sono controparti nel giudizio in cui assumono ognuno una loro teoria chiedendo al giudice chi dei due ha ragione la volontaria giurisdizione si caratterizza invece proprio perché non è una causa tutte le persone che partecipano alla procedura della volontaria giurisdizione sono lì per aiutare il giudice per contribuire con il giudice a risolvere un problema beh io vi posso garantire che ogni volta che intervengo nelle amministrazioni di sostegno a tutela dei diritti di un amministrato o di un amministrando io mi sento trattato come una controparte e questo devo dirlo in particolare mi succede con gli psichiatri che intervengono queste procedure cioè ho una difficoltà enorme a farmi accettare come avvocato all'interno di procedure in cui ci sono degli psichiatri che inevitabilmente vengono poi invitati da giudice a fornire pareri consulenze di vario genere qualunque essi siano diceva poco fa con un'espressione che mi è piaciuta molto il primo degli interventori Sarantis diceva che le persone sottoposte a queste procedure vengono trattate impersonalmente e al di fuori della loro comunità ma è così è così tutti i giorni in Italia ci sono qualcosa come 10.000 trattamenti sanitari obbligatori da dati in realtà io ritengo siano molti di più però 10.000 sono quelli ufficiali da un punto di vista tecnico giuridico di questi 10.000 io credo che neanche uno sia corretto perché non sono rispettosi della procedura giuridica che bisogna seguire per fare il trattamento sanitario obbligatorio voi sapete che un trattamento sanitario obbligatorio alla fine si realizza attraverso quattro foglie di carta che sono la proposta di un primo medico che dice secondo me il signor Tizio necessita di un TSO il certificato di convalida di un secondo medico che deve essere necessariamente di un servizio pubblico che dice si convalido questa proposta sono d'accordo anch'io questi due fogli di carta vanno davanti al sindaco che emette l'ordinanza sindacale e i tre fogli di carta vanno davanti al giudice tutelare quindi volontaria di riscrizione il quale convalida di fatto la regolarità della procedura in tutto questo chi ascolta la persona sottoposta al TSO il sono in tutto questo quanti TSO sono motivati nessuno quanti TSO sono fatti per relazione tutti una volta che si è innescato il meccanismo del TSO con il primo certificato tutti quelli che vengono a seguire il secondo medico il sindaco e il giudice non fanno altro che confermare quanto è già stato scritto da altri ma nessuno ci mette niente di suo il secondo medico che deve convalidare la proposta dovrebbe svolgere una apposita sessione con la persona da sottoporre da sottoporre a TSO per verificare l'effettiva difficoltà che quella persona sta vivendo succede mai? mai guarda caso oggi con l'elettronica io vedo certificati di proposta e certificati di convalida che riportano lo stesso orario alle 10 e 15 viene fatta la proposta alle 10 e 15 viene convalidata dal medico che sta nella stessa stanza che dovrebbe invece vedere quella persona da solo non in presenza del primo medico perché dovrebbe verificare cosa mi dicono i sindaci quando io contesto che firmano le ordinanze ma cosa devo fare io avvocato di fronte a due medici che mi dicono che quella persona è disturbata o come diciamo le persone della strada è un matto non posso che convalidare non è vero perché il sindaco dovrebbe verificare quale organo delegato del governo attenzione il sindaco quando firma l'ordinanza sindacale non è il sindaco che agisce a tutela della salute pubblica del suo comune è un delegato della presidenza del consiglio dei ministri che dovrebbe verificare che quella persona ha rifiutato le cure che gli sono state proposte le misure sanitarie extra ospedaliere che la persona ha rifiutato anche le misure sanitarie extra ospedaliere non fanno niente questi sono passaggi di carte e questo succede in tutti i TSO non arrivo mai alla conclusione di queste vicende cioè al merito della nullità del trattamento sanitario obbligatorio perché? perché i giudici ai quali mi rivolgo impugnando il TSO le risolvono tutte sul piano della ammissibilità improcedibilità e non entrano mai nel merito del trattamento sanitario obbligatorio e questo è un difetto gravissimo della nostra del nostro sistema giudiziario la parlava prima la Giannichetta della delle carenze dei servizi pubblici della del fatto che bisogna avere il coraggio finalmente di confrontarsi con queste realtà ma io mi confronto con queste realtà io vado nei reparti psichiatrici da dieci anni ma nei reparti psichiatrici non si entra diceva prima la Giannichetta ce ne sono solo una vittina aperti e gli altri sono tutti chiusi su 330 circa 310 sono chiusi ma voi lo sapete che io non riesco nemmeno a entrarci dentro quando qualcuno mi chiama e devo andare a parlare con il malato psichiatrico lo sapete cosa mi viene detto spesso dai medici le condizioni di salute non consentono in questo momento che la persona abbia un contatto con un esterno ma poi io sono un avvocato cioè tutti i cittadini hanno diritto a rivolgersi a un avvocato anche per risolvere una stupida questione condominiale anche per risolvere una banale questione di una servitù di uno stupido tamponamento una persona che ha alla quale viene applicata una misura restrittiva della libertà personale ecco il motivo per il quale il giudice tutelare interviene in queste procedure perché lui deve convalidare una misura restrittiva della libertà personale con compressione di diritti costituzionalmente garantiti bene chi sta nel reparto psichiatrico non ha diritto a parlare con il suo avvocato sto sforando ho ancora qualche minuto vi potrei parlare di decine e decine di casi ma io vengo sempre vissuto ogni qualvolta intervengo in queste procedure come il nemico che si mette in mezzo a me spesso negli SPPC con i quali cerco un dialogo mi viene detto avvocato ma lei che c'entra in questa storia questa è una questione nostra ce la dobbiamo vedere noi quindi quella persona non ha diritto ad avere un avvocato siamo a questo punto e nonostante io mi sforzi in tutti i modi di far capire che non sono un nemico sono una persona che sta svolgendo un lavoro al quale il malato psichiatrico presunto tale sta affidando un incarico io vengo sempre vissuto appunto ripeto come il nemico la mia prima esperienza dieci anni fa di un trattamento sanitario obbligatorio è stata con un ragazzo per il quale ho dovuto chiamare io il TSO ho dovuto chiamare io il 118 perché ero a casa di questo ragazzo che era talmente a un certo punto ha perso talmente il controllo da che c'era un rapporto con me diciamo più di carattere amicale e mi avevano chiamato i genitori perché avevano notato che sto ragazzo stava perdendo un po' il controllo mentre ero in casa vi potete immaginare io assolutamente incapace sotto ogni profilo questo ragazzo mi si butta i piedi mi stringe le caviglie e comincia a urlare sbattendo la testa sul pavimento no i bambini no i bambini non si toccano poi siamo dovuti letteralmente scappare di casa chiamo il 118 lo porto in psicoterapia entro nella storia di questa famiglia e cosa si scopre che questo bambino vive in una famiglia dove è stato iniziato i rapporti sessuali da una zia quando aveva 12 anni perché doveva imparare vive in una villetta dove c'è una recensione con tutte bambolette impiccate appese una ogni metro una dall'altra perché bisogna difendersi da non so che facevano dei riti propizzatori davanti a un uovo avevano fatto un uovo a alto due metri di fronte al quale facevano la famiglia faceva dei riti quel povero ragazzo era in matto e beh no c'è qualcosa che non funziona in tutto questo allora cosa mi dicono a me gli psichiatri che io ritengo più abitudini ma perché io vengo chiamato nel reparto del pronto soccorso per fare un trattamento sanitario obbligatorio di una persona in evidente stato di agitazione che sta creando subbuglio in tutto il reparto del pronto soccorso c'è polizia 118 medici quando non ci sono carabinieri e tutto il resto quello che urla i miei diritti non vi potete fare nulla che che vi credete io debbo in quel momento applicare il TSO senza nulla sapere della storia di quella persona mentre avrei bisogno di due ore in pace per poter parlare con lui questo non succede mai questo non succede mai e nella mia modestissima esperienza io mi sento di dire che probabilmente il 99% dei casi delle persone che mi chiamano non sono dei malati psichiatrici o quelli che noi chiamiamo matti che l'uomo della strada chiama il matto sono delle persone in grandi difficoltà che hanno delle storie alle spalle difficilissime da gestire e che del 90% dei casi vengono da situazioni familiari devastate non hanno soldi con un livello culturale bassissimo io ogni giorno devo mandare via persone che mi chiamano che vogliono impugnare i TSO perché non sono in grado di difenderle per le spese che loro non possono affrontare cioè io dovrei girare l'Italia a mie spese e non lo posso fare per difendere persone che non si possono difendere questa è la realtà con la quale io combatto tutti i giorni perché queste persone chiamano me perché io le ascolto non so che dirgli io non sono un medico io sono un avvocato e quindi non do consigli non posso dire nulla però sto mezz'ora a telefono con loro e loro parlano e mi raccontano le cose più strane del mondo e va bene forse dobbiamo imparare a accettare e a metterci in una vera posizione di dialogo e di comprensione di queste persone nel senso che non devono essere loro a essere integrate in un sistema sociale dal quale si sentono rifiutate ma dobbiamo essere noi ad entrare nel loro mondo e accettarli anche nelle loro stranezze solo così chi possiamo aiutare io credo questo e questa non è un'esperienza d'avvocato è quello che io constato tutti i giorni con il mio lavoro e chiudo perché potrei parlare due ore ma il mio tempo è finito grazie dell'attenzione intervento necessario indispensabile e il fatto che sia la prima volta che se ne parla in questo consesso beh forse è davvero un inizio di collaborazione anche con questa componente che è così importante mi verrebbe da dire se Bruno avesse incontrato prima persone così perché non ci siano più i forse tardi ma è ancora e quindi la testimonianza e la storia di Bruna e la sua costante presenza all'interno di medicina democratica sui temi della salute mentale con molto piacere la collego all'intervento dell'avvocato che abbiamo appena ascoltato grazie grazie soprattutto a medicina democratica di cui sono socia da tanti anni di aver organizzato anche questa sessione che purtroppo nell'ambito nazionale l'attenzione alla salute mentale non è che sia in ambito voglio dire non degli addetti ai lavori ma della cittadinanza nella sua complessità molto seguita sentita eccetera ecco mi dispiace molto conosco l'avvocato Giochino di Palma intervenuto al convegno che abbiamo organizzato a maggio a Bologna dico abbiamo perché anche medicina democratica ha partecipato dicevo mi dispiace moltissimo contraddirlo nella sua espressione che ha detto che le persone sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio nella quasi totalità sono persone che sono sprovviste di mezzi culturali e anche dal punto di vista economico sono piuttosto svantaggiate è molto vero però non si considera che ci sono anche persone che hanno il portafoglio a ventaglio e possibilità culturali non inferiori ad un addetto ai lavori che sono costretti a ricorrere al trattamento sanitario obbligatorio io rappresento un'associazione diritti senza barriere non solo ma sono anche una familiare nel senso che ha una congiunta malata mentale e da oltre 30 anni appunto non dico quotidianamente ma poco magari c'è la giornata che ricevo tre telefonate poi può passare una settimana che nessuno si fa sentire però cosa c'entra questo c'entra col fatto che ho conoscenza ed esperienza diretta di persone che economicamente stanno molto bene hanno girato tutta Italia ed anche all'estero per trovare un professionista qualificato che potesse fare uscire dal loro dramma esistenziale di avere un familiare che sta male ecco la malattia mentale purtroppo è un'esperienza terrificante che fa soffrire terribilmente non solo la persona che è colpita dalla malattia ma tutti coloro che affettivamente ci ruotano intorno io vengo da Bologna purtroppo a livello nazionale la sanità bolognese è rappresentata come il faro è vero non posso disconoscere che ci sono delle eccellenze però qui stiamo parlando di salute mentale purtroppo devo dire che nell'ambito della salute mentale non è assolutamente così perché si fanno vanto appunto di presentare delle situazioni positive però c'è da dire che di queste situazioni positive presentano i casi lievi ecco è grazie tanto ma io faccio riferimento a Ippocrite che diceva che ci sono tre categorie di malati sono quelli che dopo un po' si sollevano da sole quelli che con un po' di terapia si riprendono poi ci sono quelli che non reagiscono assolutamente a nulla ecco allora io faccio riferimento alla categoria dei malati gravi ma come non reagiscono nulla Spiva diceva che ci sono delle situazioni gravi ma che sono tali proprio perché non si è messo in atto dei provvedimenti da poter favorire una ripresa ecco io mi baso su questi ma quali provvedimenti vengono messi in atto per i malati gravi rimango sempre non solo a Bologna ma nell'ambito dell'attività che svolgo partecipo a destra ma anche a convegni non solo ma faccio anche parte di coordinamenti sia regionali che nazionali che si occupano della materia di cui stiamo trattando stamattina e purtroppo ho avuto delle esperienze non certo positive in altre realtà proprio per i malati mentali gravi allora cosa voglio dire che invece in quelle situazioni dove vengono approntati dei percorsi che favoriscono un percorso di ripresa che ora con una parola inglese viene denominato recovery semplicemente come diceva l'avvocato di Palma che vengono ascoltati ecco ma questo nei servizi psichiatrici bolognesi non solo non vengono ascoltati ma perché perché ci vuole tempo ecco io mi metto anche dall'altra parte del tavolo cioè dall'operatore dagli addetti ai lavori ecco se per ascoltare un malato ci vuole come minimo tre quarti d'ora poi molte volte non basta ecco com'è possibile quanti malati posso assistere in una mattinata in una giornata lavorativa di sei ore o sette non di più ecco se devo dedicare più o meno non per tutti ma più o meno tre quarti d'ora un'ora ecco capite bene che non sarebbe possibile allora non solo ma c'è anche da dire che la formazione di questi operatori già chi mi ha preceduto l'ha detto molto bene che non sono preparati ad un ascolto ad una forma empatica verso il malato ecco e quindi io ricevo delle lagnanze che appunto sottolineano il fatto che come entro in ambulatorio subito mi chiedono hai preso la terapia e se il malato fa presente che soffre degli effetti collaterali della terapia ma no non è possibile è perché tu hai questa resistenza devi prenderle altrimenti poi dicono ti faccio il TSO ecco e allora cosa succede che il malato rifiuta la terapia rifiuta anche il colloquio che poi colloquio non è perché si limita soltanto a chiedere se ha preso la terapia e quindi entra nella spirale che poi arriva il trattamento sanitario obbligatorio non solo ma cosa succede per i malati e adesso qui entro nel passaggio del titolo della relazione che mi è stata assegnata e cioè entrano nel girone dei malati che non sono più recuperabili i cosiddetti malati cronici e dove vanno a finire questi malati cronici se nell'ambito familiare per conflitto anche all'interno della famiglia non è possibile gestire oppure perché proprio il malato stesso rifiuta il rapporto con il congiunto o ci sono delle situazioni che una persona sola non è in grado di gestire il proprio congiunto ecco entrano nel girone delle residenze psichiatriche le residenze psichiatriche non solo in Emilia Romagna ma ormai in tutta Italia sono gestite prevalentemente dal privato sociale che cosa sono? sono delle cooperative o se non sono cooperative sono delle strutture multinazionali addirittura ecco che gestiscono queste residenze ma potete beh immaginare che mirano al business del malatto mentale malatto mentale non è altro la materia prima che gli permette di fruttare del denaro quindi cosa succede? che il personale non è preparato la Giannichetta faceva riferimento alla pistola elettronica che appunto intervengono più che altro sono anche degli OS che danno questa segnalazione ma certo ma se viene declassificato cioè quello che dovrebbe fare il medico nelle residenze viene assegnato all'inferniere che poi più delle volte non è presente giornalmente ma in poche ore alla settimana non solo ma questi infermieri dipendono da delle cooperative cioè se una residenza è stata data in appalto ad una cooperativa la cooperativa si avvale di un subappalto di un'altra cooperativa per gli infermieri questi infermieri ruotano su tante strutture non conoscono il malato nel senso che si limitano a somministrare la terapia vedono la scheda della terapia ecco stamattina ore otto devo somministrare quella cura ma diventa come un pollo d'allevamento ecco nel senso che servono soltanto per somministrare la terapia che terapia è? sono psicofarmaci ecco gli effetti collaterali di questa terapia mica loro sono interessati no ecco perché c'è lo psichiatra del territorio ma lo psichiatra del territorio non vede giornalmente gli effetti collaterali ecco li vede sì o no ogni tre mesi e quindi potete ben immaginare come è possibile monitorare una terapia a distanza di tanto tempo quindi si riduce che sono a proposito dei manicomi ecco sono dei manicomietti io li chiamo perché è così ecco nella pratica quotidiana è così sono dei manicomietti sono persone che sono rinchiusi in queste strutture dove non c'è nessuna possibilità né di ripresa né di ascolto ed è un disastro è un fallimento non solo per i malati ma anche dal punto di vista economico del bilancio appunto della sanità ecco quindi che cosa si hai ragione devo streggere però che cosa devo mettere in evidenza prima di chiudere che è una situazione che è preoccupante è allarmante anche cioè io sono preoccupata come familiare ma sono preoccupata anche come contribuente perché vedo che il denaro pubblico non è speso come dovrebbe essere speso nel senso che non esiste la cura del malato recupero ma quanto mai recupero allora come si è arrivati a questo ecco si è arrivati proprio perché non è stato fatto in maniera adeguata una insomma terapia con ascolto partecipazione del malato e quindi riprendo l'espressione di Spiva che diceva che non ci sono dei malati cronici sono i processi che rendono cronica la persona allora se questo succede a Bologna che viene presentata a livello nazionale come il faro nella sanità potete immaginare cosa potrà mai succedere nelle altre realtà ecco chiudo ancora con un'espressione che abbiamo avuto un direttore dei dipartimenti di salute mentale a Bologna che per oltre dieci anni è stato uno splendido attore nel senso che è molto importante presentare le cose con eloquenza dimostrare che si fanno le cose egregiamente eccetera eccetera ma poi nella pratica quotidiana succede questo ecco mi fermo qua e che e poi non solo ma che cos'è che noi la nostra proposta come associazione è quella che si devono formare delle commissioni che non abbiano conflitto di interessi con l'azienda perché a Bologna ci sono oltre 35 associazioni che sono finanziate attraverso progetti dall'azienda usbolognese quindi chiedo a voi come mai possono essere autonome ed indipendenti dall'azienda che li foraggia con risultato che non esiste segnalazioni di servizi e soltanto la sottoscritta che per scelta noi non abbiamo mai presentato progetti perché riteniamo che per rimanere autonome ed indipendenti la condizione sine qua non è quella di non prendere soldi dall'azienda verso la quale noi dobbiamo segnalare i servizi e quindi è fondamentale formare delle commissioni di rappresentanti che non abbiano conflitti di interesse e che siano loro a creare un conflitto con l'azienda e io grazie 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 Bruna facciamo il cambio delle sedie vieni tu accanto a me da quest'altra parte no vieni qui accanto a me Francesco di qua perché la telecamera buongiorno devo ancora riprendermi dal bellissimo intervento di Gioacchino di Palma per cui preferirei ascoltare invece di ma è arrivato il mio momento quindi e il mio intervento ha un titolo un po' altisonante un po' pomposo il conto transfert l'intersoggerità snodi etici in realtà vorrei parlare di cose molto semplici cioè ripartire dal nostro vissuto di operatori e di quanto sia difficile stare a contatto con persone cosiddette con sintomi gravi di disagio psichico grave lavoro in una comunità intanto vorrei spendere una parola di ottimismo perché spesso si parla dei problemi di quello che non funziona e sentendo le relazioni di stamattina mi sento di spezzare una lancia in favore di una realtà in cui lavoro che è un po' un'isola felice sarà per l'orientamento fenomenologico lacaniano sarà per uno spirito di lavoro di equip estremamente improntato al rispetto della soggettività però si può fare qualcosa di diverso dalla coercizione si può fare qualcosa che vada incontro verso la trasformazione verso l'accoglienza anche di sintomi cosiddetti psicotici cosiddetti gravi perché ha ragione Gioacchino le persone con cui abbiamo a che fare non sono normali ma non nel senso di una normalità da standardizzare o da appunto da etichettare in quanto devianza ma in quanto ricchezza in quanto diversità e l'etica l'etica proprio nella sua etimologia ci ricorda che è un'invenzione riconoscere una persona una per uno e non dare risposte standard questa è la morale è la legge la legge è folle per definizione perché la legge è uguale per tutti l'etica sta nel umanizzare la legge e nel e nel saper declinare in un incontro che sia veramente umano ecco dovrei portare quindi il mio umile contributo da persona che è partita da quell'accademia che Riccardo definiva come così tecnica e impersonale dove dove ci viene detto così poco di quanto le persone ci toccano ci feriscono e di quanto poco ci viene detto di quanto noi feriamo loro ecco il maestro Bornia che per me è stato una guida nel faro è stato un faro nel deserto dei tecnicismi all'università mi colpì molto questa frase studiando proprio le contenzioni meccaniche diceva non c'è solo la violenza delle contenzioni c'è la violenza dell'indifferenza e della rassegnazione non sempre si ascoltano i pazienti ci vuole molto tempo per questo come diceva Bruna altro che 45 minuti a volte ci vogliono ore non sempre si analizzano i modi di essere delle emozioni deformate e incendiate dall'angoscia e dalla disperazione della tristezza e della gaiezza patologica non sempre si tiene conto dell'influenza delle parole che possono attenuare o accrescere la condizione di sofferenza non sempre si rispetta la dignità così facilmente frantumabile dalla fretta e dall'impazienza dall'ansia e dalla perdita di speranza sono questi i modelli antiterapeutici che tendono a spegnere la dimensione relazionale e della cura ecco per me in questi versi dell'apsus in questo discorso di Eugenio Borgna c'è tutto tantissimo di quello che è l'incontro dice Di Petta Gilberto Di Petta ogni incontro o è assoluto o è un non incontro allora io mi chiedo da quanti non incontri si scivola verso pratiche di custodia e di violenza senza accorgersene ecco poi si può parlare sicuramente e gli interventi precedenti sono stati molto molto belli in questo si può parlare di organizzazione dei servizi si può parlare di riforma si può parlare di leggi di inquadramenti di servizio però poi siamo sempre implicati in prima persona e quindi un risveglio in qualche modo di una coscienza etico-politica per incidere la Gianni Ched ha detto rimettiamoci insieme sì perché io stamattina in quest'aula in questa Torino dopo tutti questi chilometri mancano troppi utenti troppi familiari troppe persone coinvolte allora quella partecipazione quella recovery vorrebbe vedere un tavolo compartecipato come anche i testi tipo l'ultimo del terzo settore dice una sinergia nella coprogettazione dei servizi ecco siamo ancora forse lontani poi ho pensato e questo lo lancio come come piccolo delirio per una discussione tutti insieme chi sta male può partecipare politicamente io me lo sono domandato tante volte perché in questo in questo tempo stamattina venivo qua e pensavo che sono stati eletti due presidenti di Camera e Senato che forse rappresentano una grandissima deriva dal punto di vista dei diritti del rispetto della soggettività e dico in questo quadro anche di astensionismo riprendere parte alla politica quindi se non lo fanno i cosiddetti parlanti i cosiddetti performanti la borghesia come può una persona che soffre prendere parola uscire dall'isolamento unirsi politicamente forse stiamo chiedendo tanto beh questo è un mio delirio di stamattina scusami Emanuela ma qui con te mi sento un po' a casa quindi mi sento di farlo io ho perso completamente la bussola del mio intervento ma va bene così spero di avere perché troppo spesso non si fa molta autocritica ecco questo è un tema forte che voglio portare si parla spessissimo della violenza che i pazienti fanno ma pochissimo dei nostri modi di essere violenti allora forse un termine così tanto caro Emanuela che mi ha che mi ha portato dagli studi triennali è la crisi c'è un bel libro di uno psicanalista si chiama crisi e contro transfer quanto siamo disposti a farci mettere in crisi e ripartire da questa crisi che il paziente utente dei servizi ci porta per rilanciare insieme da questo incontro che Basaglia chiamava l'incontro come contatto affettivo come atmosfera pre-riflessiva in cui non si rimane estranei alla situazione in cui si viene a contatto non si rimane estranei di fronte poi a questa estranetà di questa soggettività così congelata che è un termine così bello perché dire malato grave è così denigratorio invece parlare di soggettività congelata di un'alienazione di essere diventare estranei a sé che è la follia quindi l'incontro con la follia da questa prospettiva cambia tutto perché una stereotipia non diventa una stereotipia di un ragazzo autistico non diventa più qualcosa da correggere diventa qualcosa da incontrare diventa un ritmo da una musica forse da riuscire a poi farsi partner e questo me l'hanno insegnato le persone con cui stavo lavorando da due anni vado verso le conclusioni c'è una bellissima poesia di una cotessa che ha vinto il novel che mi mi emoziona molto di Slava Zimborska dice non c'è giorno che ritorni non due notti uguali uguali né due baci somiglianti né due sguardi tali e quali e poi finisce dicendo ci abbracceremo sorridenti fra le braccia anche se siamo diversi come due gocce d'acqua due gocce d'acqua sembrano uguali però sono diverse e quindi siamo fatti della stessa pasta ecco allora io mi viene in mente che dall'arte di legare le persone come come titolo di un romanzo di un libro pubblicato da una psichiatra un tempo fa all'arte di legare con le persone ecco quel con nel mio intervento nel mio discorso fa la differenza per non scivolare nelle difese dall'angoscia dalla fatica dalla rutinarità e per vedere le persone una per una ecco avrei finito grazie grazie Francesco grazie anche a Bruna e proprio per continuare a legare collegare io chiamerei accanto a me Donatella è un'anticipazione ma non della relazione ma dell'essere vicini e dell'essere insieme perché ora partiamo per la prossima sessione che purtroppo sarà tutta da remoto e è con molto piacere che passo la parola ad Elena ci tengo a precisare quanto ci sia un filo di collegamento nello studio anche di questa mattinata la richiesta a Mao Valpiana tanto legato anche a questo ambiente è una richiesta che io ho fatto tempo fa proprio perché ci tengo che anche Medicina Democratica nel suo dialogo che ha sempre un po' avuto anche con il movimento non violento nel tempo come quello di oggi ancora di più si reintreccino le nostre storie quindi è con noi Elena Buccoliero del movimento non violento buongiorno grazie per questo invito che mi sentite vero si fai un segno si ti sentiamo ok grazie dicevo grazie per questo invito che fa parte davvero di una vicinanza molto forte sebbene gli impegni priorità su cui prioritariamente le nostre organizzazioni si muovono siano impegni differenti se voi andate sulle pagine del movimento non violento in questi giorni come come potete immaginare in rete intendo trovate soprattutto notizie sugli viatori di coscienza ucraini e russi che si stanno opponendo alla guerra quindi questo è rimane il il punto di partenza della nostra associazione ma mi sono anche detta che se questo invito veniva rivolto non era per avere un contributo specifico su un tema perché non potremmo essere capaci di questo ma per un'attenzione un tipo di sguardo su questa realtà ed è quello che che proverò a fare il movimento non violento nasce con Aldo Capitini la definizione una delle definizioni di non violenza che Capitini dava era che la non violenza è apertura all'esistenza alla libertà e allo sviluppo del vivente del vivente perché gli piaceva inserire non soltanto le persone ma tutto il vivente apertura all'esistenza alla libertà e allo sviluppo nelle analisi che ho ascoltato questa mattina con grande piacere trovo tanto di questa tensione verso un'apertura alla persona è un'apertura difficile soprattutto quando le relazioni sono rese più complesse e quando non ci sono le condizioni per potersi muovere come si vorrebbe farlo il movimento non violento ancora nasce dall'obiezione che è forse la prima azione che sta davvero al principio di uno sviluppo di una di un'azione non violenta intanto dire questo no cioè intanto rifiutare la violenza che c'è è Aldo Capitini che decide di non prendere la testa del partito fascista è Piero Pina che decide di non fare servizio militare sono gli amici russi ucraini in questi giorni ma è anche Franco Basaglia che dice io non firmo e decide di non autorizzare nella sua struttura determinati trattamenti questa cosa dell'obiezione io la ricordo perché credo sia preliminare a tutto il resto cioè soltanto decidendo che c'è qualcosa di intollerabile si sveglia la creatività per trovare delle strade diverse comincia da lì comincia da lì l'analisi comincia da lì la ricerca di un programma costruttivo Capitini nell'immediato dopo guerra proponeva i costi sui centri di orientamento sociale dove le persone potessero stare insieme a confrontarsi su problemi comuni lo dico perché sognava che questo accadesse anche nei manicomi nelle carceri con un'idea che per i tempi era davvero rivoluzionaria cioè con l'idea che prevedeva che potessero stare assieme i pazienti e coloro che si occupavano dei pazienti a confrontarsi insieme su qual era il modo migliore per immaginare la terapia che voleva anche dire includere le persone il modo il motto dei costi era ascoltare e parlare non l'uno senza l'altro quindi che prevedesse che quel tempo che manca sempre per prestare ascolto invece fosse il centro del percorso e che la persona con un disagio fosse inclusa e fosse parte dell'orientare il proprio percorso di terapia ascoltavo poco fa l'avvocato che parlava di quanto tutto questo manchi nei trattamenti più pesanti che vengono fatti e mi ricordavo di questi cose che Capitini sognava di poter aprire nei reparti psichiatrici dove chi cura e chi viene curato fossero in quel momento alla pari a ragionare insieme su quello di cui hanno bisogno diverse persone che hanno iniziato il movimento non violento hanno lavorato in psichiatria alcuni perché sono stati obiettori di coscienza con Basaglia altri perché appunto hanno svolto un mestiere dentro e altri amici tuttora lo stanno facendo in condizioni che sono molto diverse parlavo con uno di questi che è Daniele Lugli di Ferrara come me che era allora un dirigente che contribuiva ad ammettere aperture di reparti come legittime dal punto di vista amministrativo quando ancora la legge Basaglia non c'era e diceva ce l'abbiamo fatta grazie a un movimento culturale condiviso e diffuso e partecipato non so se ce l'avremmo fatta adesso ricevo ancora dalla non violenza la lezione a riconoscere nella realtà che non ci piace dimensione di violenza diretta ma anche strutturale e anche culturale di violenza strutturale ho sentito parlare molto questa mattina e la ritrovo nei pochi finanziamenti per la sanità nella mancanza di tempo per ascoltare le persone nell'inadeguatezza delle strutture per l'appunto che accolgono nella chiusura delle strutture ma credo che ci sia anche tanta violenza culturale che non dipende soltanto da voi che non dipende soltanto da chi è più incluso in questo in questo lavoro Francesco un attimo fa ricordava tutto questo e anche altri interventi di quanto sia sentito necessario il mettere da parte l'accantonare le persone che ci ricordano che abbiamo un problema per continuare con un'omologazione rassicurante così come appunto Francesco parlava del cammino dei diritti che si sta forse facendo nella nostra società di adesso anche italiana non soltanto italiana e credo che anche questo sia un argomento un livello di analisi su cui ritornare ancora pensavo a a quello che a quello che manca rispetto alla tutela dei bambini prima ci veniva a parlare abbiamo ascoltato la storia di quel di quel ragazzo che ha avuto bisogno di un TSO e che era in realtà forse l'elemento più sano di una realtà familiare totalmente disfunzionale manca molto c'è molto che manca nell'intercettare situazioni che sono già promesse di disagio perché sono di per sé costruttive di quel disagio ma c'è anche poco coraggio nell'intervenire su questo secondo me e c'è anche un ritorno indietro anche su questo campo è un voler lasciare silenziate tutte quelle situazioni il più possibile fino al momento in cui è possibile fino al momento in cui diventano intollerabili e quindi arrivare poi a delle prese in carico quando le cose sono già estreme non sarà un caso se anche in Emilia Romagna che è la mia regione c'è sempre meno lavoro per le comunità educative per adolescenti e sempre di più per le comunità integrate che sono quelle dove ci sono ragazzi con profili esordi psicotici o qualche cosa di questo genere quindi sempre meno un'intervenire quando ci sarebbe ancora la possibilità di modificare delle traiettorie esistenziali e sempre di più aspettare quando si pensa che poi non ci sia nulla da fare dopodiché voi ricominciate dal principio e da farcene ancora tanto però capiamo che arrivare fin lì lasciando tutto al suo posto come se tutto andasse bene non è lungimirante e non produce salute sicuramente un'altra debolezza che sento tanto e che chi lavora in questi settori mi racconta tanto è la debolezza dei servizi territoriali l'avete detto anche voi lo scollamento con le famiglie la difficoltà per le famiglie soprattutto quando le situazioni non sono di estrema gravità a trovare un supporto adeguato un tempo adeguato a sentire che chi sta prendendo in carica il proprio familiare sta capendo davvero la situazione che viene vissuta un grande senso di solitudine un grande smarrimento in questo non sapere come avere a che fare come trattare il disagio del proprio del proprio familiare come resistere a vicende che possono durare decenni logorando relazioni logorando la vita delle persone che stanno accanto anche perché il disagio è molto privatizzato nonostante magari ci siano associazioni possibilità di automuto aiuto ma l'aiuto che si sente di ricevere davvero è davvero piuttosto fragile e inadeguato per sollevarci da tutto questo chiudo con Aldo Capitini con cui ho iniziato Aldo Capitini diceva anche che la nuova violenza è un segno di direzione che diamo alla nostra vita ed è una tra le definizioni è una che a me piace particolarmente perché mi ricorda mi aiuta ad ammettere come è possibile la fragilità il fallimento possibile un segno di direzione non significa che so già dove andrò e come farò da arrivarci ma significa che io intanto sono orientato da quella parte è verso di lì che vorrei andare su come svolgere il percorso su come attrezzarmi per il percorso e quali compagni di viaggio scegliermi è ancora tutto un po' da definire però intanto so che ho bisogno di sapere e di sentire che è quella la direzione verso la quale mi sto muovendo tutto il resto da costruire lo farò meglio che posso ci arriverò meglio che posso ma quella è la direzione che voglio prendere mi piace pensare che questo segno di direzione sia anche vostro con tutti i limiti della realtà dei servizi dei finanziamenti delle decisioni della politica che però sia anche questo anche per voi un senso di direzione da dare al proprio agire come professionisti come volontari come operatori della salute o comunque in senso largo della cura sapendo che siamo piccoli che arriviamo fino a dove possiamo ma che quel pezzo di strada lì che poi facciamo non possiamo non farlo lo dobbiamo a noi stessi lo dobbiamo le persone che abbiamo intorno e non staremmo bene se non sapessimo di averci provato io chiudo immediatamente vi ringrazio dunque volevo soltanto avvertire che fra dieci minuti ci collegheremo con la maratona web internazionale che si tiene oggi per Julian Assange per cui ci dovremmo collegare attraverso il cellulare con appunto tutti gli altri e noi dalle 11.44 alle 11.48 dobbiamo appunto fare questo breve intervento che faranno Vittorio e Marco e ci chiedono appunto di far vedere in che situazione diciamo logistica siamo in modo tale a far vedere che stiamo facendo un congresso con un certo numero di persone per cui questa cosa io dovrei collegarci alle 11.35 non so se è il caso di far intervenire qualcuno prima per qualche minuto oppure a questo punto aspettare dopo le 11.48 perché purtroppo ci sono anche tempi tecnici di collegamento che chiaramente in realtà noi saremmo perfettamente a metà della nostra mattinata quindi forse potremo anche cogliere l'occasione del caffè ma tra l'altro l'altra comunicazione che volevo dare è che nell'intervallo pranzo sono disponibili per il relatore e le relatrici chiaramente gratuitamente ma ci sono ancora i penso no i buoni per il pranzo a 15 euro non lo so se vogliamo a questo punto mettere un attimo in stand by la nostra mattinata no come il caffè simbolico nel senso come dire restando qui chiaramente mi dispiace perdere 10 minuti preziosi volendo non so se qualcuno al volo vuole restituire a caldo c'è qualcuno che non non è negli interventi programmati di questa mattinata e che a caldo si sente di restituire a tutte e a tutti noi oppure anche il co-moderatore di questa sessione credo che siano venuti fuori tantissimi stimoli tantissimi spunti anche molto coerenti fra loro abbiamo oscillato tra vissuti emotivi anche molto come dire slancio verso l'utopia ma anche molto come dire a fondo nella realtà e nella concretezza dei nostri servizi credo che andando poi sul finale con l'intervento finale di Luca probabilmente cercheremo anche di darci delle traiettorie di lavoro e questo tema della traiettoria con cui ci salutavano anche Elena mi sembra molto importante da tenere un po' con noi vuoi anticipare qualcosa? puoi era una provocazione la mia secondo me i temi che sono usciti già costruiscono una prima base di analisi sicuramente alcune cose le dobbiamo approfondire ma io riprendo alcune cose che sono state dette quando Maria Grazia rappresenta questa neomanicomialità delle strutture sicuramente mostra una possibilità a cui si può evitare che si può impedire con questa incertezza questo dubbio metodologico per ora è sicuramente l'esito di una serie di processi il TSO la reclusione in strutture è l'esito di una serie di processi che vediamo agire anche molto prima nelle forme di desoggettivazione di intrattenimento che attraversano i servizi il terzo settore che con i servizi svolge attività e quindi uno dei temi forse sarebbe oggi dirsi visto che si è detto facciamo autocritica ma siamo anche capaci di fare alleanze allora probabilmente facciamo autocritica su come negli ultimi vent'anni non siamo stati in grado di discriminare di rimere qual era il terzo settore che proponeva pratiche emancipatorie e qual era quello che invece serviva solo alla destrutturazione dell'idea di pubblico nei servizi questa è una bella domanda per fare autocritica e questo come non dico come medicina democratica ma come movimento che insieme con cui dialoghiamo anche con gli altri soggetti e l'altro punto che mi sembra sia emerso dalla mattinata e che ci fa venire in mente alle possibilità del futuro è andare a leggere veramente cosa succede nelle micro contesti nelle pratiche nelle relazioni sia istituzionali ma anche del mutualismo di lotta dopo parleranno gli altri compagni che lavorano fuori dai servizi andiamo a leggere quello che succede facciamo con ricerca userei questa parola visto che siamo anche a Torino quindi secondo me è da usare questa parola che significa pratica politica per la trasformazione perché quello che è stato detto rispetto a quelle forme di partecipazione manipolatoria che abbiamo in salute mentale i comitati l'associazionismo ripreso ma anche le commissioni parlamentari la commissione parlamentare che c'è stata nel 2020 cioè Maria Grazia che esiti hanno prodotto queste forme di partecipazione manipolatoria allora noi dobbiamo capire noi con le pratiche come vogliamo stare vogliamo andare a leggere a spiegare cosa succede in queste formule vogliamo creare ricerche emancipatorie su questo qualche stimolo se va bene grazie a tutti grazie a tutti In maniera molto veloce, io sono originario di Sansevero, provincia di Foggia, ma da due anni vivo a Reggio Emilia perché ho mio figlio che sta all'OPG. Uso il termine OPG perché c'è ancora scritto fuori OPG, che sia chiaro, quindi usiamo i termini che ci sono ufficialmente e istituzionalmente presenti. Sulla carta sarebbe ATSM, articolazione di tutela salute mentale. Sono un medico e vengo un po' dalla storia di medicina democratica perché per me è stato sempre un riferimento peculiare, sia nel fare medico che altro. Ma il tema salute mentale, che ne affronto perché c'è mio figlio che sta in un reparto psichiatrico ex OPG a Reggio Emilia. L'affronto perché è un tema che in medicina democratica, mi ricordo dall'inizio, aveva anche all'interno delle comunità di condivisione ma anche di partecipazione in cui non c'era una settorialità in quanto tale. C'erano le persone con sofferenze, c'erano le famiglie, c'erano gli operai, c'erano e ci sono, penso ancora, le persone concrete che fanno diventare la salute mentale non un settore, ma qualcosa che ci interroga profondamente. Perché se la salute mentale resta un settore è meglio che, quando mi riguardo, ci andiamo. Perché se così è, abbiamo bruciato anni e anni invece di lotte che hanno riportato invece a quello che è la base della sofferenza in tutti i sensi, che consentirebbe di partecipare alle persone cosiddette gravi se non fossero chimicamente deprivate, se non stessero in quelle che dobbiamo chiamare onestamente manicomi, basta andare a vedere l'etimologia che cosa significa, senza scandalizzarci. Tra l'altro ho visto ad esempio a Reggio Emilia dal manicomio San Lazzaro, famoso, pieno di verde, parco, che è diventato adesso un luogo degli uffici dell'Ausl. Io dico sottratta al patrimonio, sottratta ai pazienti, alle famiglie, ad altri, al territorio. Mentre vengono, sono stati rimandati i cosiddetti pazienti e le famiglie sulla strada, tranne eccezione, come diceva Bruna, come dicevano anche gli altri, i cosiddetti pazienti gravi, detti così che poi sono le persone, le storie, i lavoratori, non lavoratori, e le lavoratrici, tutto quello che si vuole, che hanno espresso il disagio profondamente, perché hanno la componente bio, psico, sociale, come si dice, ma sostanzialmente il disagio, il disadattamento è il loro o è la realtà sociale che invece dobbiamo noi sempre di più comprendere fino in fondo che è disadattata e disagiata rispetto a quelle che sono state definite più volte anche risorse, persone, tutto quello che si vuole. L'articolo 3 della Costituzione è stato stracciato, io mi baso sul tema della partecipazione però, perché impedire alle persone, perché sono chimicizzate, zombizzate, come lo vogliamo chiamare, anche quelle che sono più sudumore, e a seconda chiaramente della farmacocinetica a cui è sottoposto il loro corpo, che è un corpo unico, dovrebbe essere, non un corpo unico. Allora da questo punto di vista penso che noi stiamo di fronte sostanzialmente, insieme alle carceri, parliamo di 68 suicidi a ieri, se non sbaglio, in realtà i suicidi fisici sono ben pochi, tra virgolette, ma c'è un suicidio di massa, che forse non vogliamo vedere, è che anche il nostro, quando a un certo punto non facciamo della salute mentale un tema fondamentale. Nella salute mentale c'è un capitale umano, sociale, politico, economico, che non appartiene a qualcuno, appartiene all'intera collettività. E se non lo comprendiamo, non comprenderemo neanche perché poi c'è tutto il tema di altre fabbrichette, che si chiamano RSA, comunità o quant'altro, dove tra l'altro amici e compagni perdono completamente identità, non esistono più perché chi con l'Alzheimer e chi con l'altro, a un certo punto, vengono sottratte dal territorio, da loro esistere nel territorio come persone che hanno costruito pezzi di storia e messe lì e buonariamente la solidarietà di classe è andata a farsi fottere. Perché anche c'è questo tema da costruire tutti quanti insieme. Come si fa a stare dentro questi percorsi senza interrogarci? Penso che si debba, siamo già collegati, dopo alla fine ci sono altre sette relazioni, comunque in realtà questo intervento l'ho trovato anche estremamente prezioso e poi di lancio delle prossime due relazioni, ma penso che Marco, Antonio... Ma dovete venire poi qui? C'è, ho fatto spostare, ho fatto spostare. No, non ho fatto spostare. No. Ma dovete venire poi? No. 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 Grazie. 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 Buongiorno, sono Caldi Rolimarco, Presidente attuale di Medicina Democratica. Come associazione tutti i giorni ci scontriamo con l'opacità informativa, in particolare per quanto concerne i dati epidemiologici, sanitari, dati ambientali, dati sulla nocività delle sostanze chimiche. Molti lavoratori hanno subito e subiscono pesanti conseguenze per aver denunciato pubblicamente carenze e nocività nei propri luoghi di lavoro e questo in virtù delle norme sul cosiddetto vincolo fiduciario che li lega in maniera fiduciaria ai loro datori di lavoro e li incatena al loro datore di lavoro questo profilo e queste sono catene che vanno spezzate. Come quelle che oggi trattengono Assange per far sì che tutti i re si mostrino per quello che sono, nudi, di fronte a un principio basilar di democrazia che è quello della trasparenza e dell'informazione su tutto ciò che interessa la specie umana, l'essere umano e le modalità di funzionamento della nostra società. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Vittorio Agnoletto, innanzitutto io desidero ringraziare a nome di tutta Medicina Democratica Presenza per la responsabilità che si è assunta di organizzare questo importantissimo momento di solidarietà. Noi siamo tutti debitori verso Giuliano Assange e Wikileaks perché ci hanno aiutato ad aprire gli occhi e a tenerli aperti per comprendere quello che sta accadendo attorno a noi. E guardate, non mi riferisco solo e unicamente alla guerra, infatti voglio fare un esempio che riguarda la sanità, il tema di cui stiamo discutendo al Congresso di Medicina Democratica. Qualche anno fa Wikileaks ha reso disponibili dei file intercettati in una riunione segreta del TISA, l'accordo internazionale sul commercio dei servizi, cioè una riunione alla quale partecipavano i 40 paesi più ricchi del mondo e i rappresentanti dei fondi finanziari e discutevano su come privatizzare la sanità e l'istruzione, cancellandoli come diritti e togliendo qualunque responsabilità agli stati. Il file reso pubblico da Wikileaks riportava le dichiarazioni di uno dei dirigenti dei fondi finanziari che diceva questo. La sanità sarebbe il settore in grado di produrre i massimi profitti per il capitale privato, a condizioni che gli stati, le strutture religiose e le fondazioni caritatevoli facciano un passo indietro ed escano dalla sanità. Questa intercettazione è importante perché rende esplicito quello che sta accadendo ai servizi sanitari in tutto il mondo che diventano strumenti di profitto e non di tutela della salute. Oggi noi avremmo bisogno, e ho fatto solo un esempio, di 10, 100, 1000 Giuliano Assange in grado di rompere il potere del pensiero unico in tutti i settori della società. Non dimentichiamoci che tutta l'informazione mainstream del mondo occidentale dipende solo da 4 o 5 grandi agenzie di informazione che sono totalmente controllate dal potere nordamericano. Non dimentichiamoci che chi esprime un parere diverso, ad esempio sulla guerra in Ucraina, viene isolato, ridicolizzato, accusato di convivenza col nemico e poi comunque non ha accesso alla grande informazione. Noi invece abbiamo bisogno di sapere, abbiamo bisogno di avere informazioni per un motivo molto semplice, per poterci costruire una nostra opinione autonoma. L'improginamento di Assange è qualcosa che va oltre la sua persona e oltre a essere una profonda ingiustizia è un tentativo di imprigionare le nostre menti, di ridurre e di comprimere la libertà di tutti noi. Quando un potere ha paura della verità, quando un potere ha paura della trasparenza, significa che allora per una questione di principio quel potere non è democratico, quel potere non è pulito e noi di quei poteri dobbiamo avere paura. Noi siamo qua oggi per dire che la sua lotta, la lotta di Giuliano Assange, è la lotta di tutti noi. La sua libertà è la nostra libertà e siamo qua anche a dire grazie Giuliano, stai pagando un prezzo altissimo, grazie perché ci hai regalato spicchi di libertà importanti e noi dovremo cercarne di fare il miglior uso del quale saremo capaci. Grazie. Ok, cambio di scena. In realtà credo comunque in continuità, anche se questa pausa ci ha fatto riflettere ma al tempo stesso forse ci ha rinforzato nelle nostre motivazioni a continuare le nostre lotte. Allora penso e spero che siano sempre collegate con noi Angelo Barbato e Laura Guerra che sono i prossimi relatori e relatrici che entreranno proprio nel vivo di un tema che è il tema della psicofarmacologia e della crisi della psicofarmacologia, un tema concreto, attuale, già lanciato da diversi interventi precedenti. Angelo. Grazie, mi scuso perché mi sono collegato in ritardo, volevo capire, le mie slide ce ne avete voi, le potete proiettare voi mentre io parlo? Sì, assolutamente, ora viene Antonio ad aiutarmi. Allora se possiamo cominciare dalla prima e poi il titolo. Benissimo, mi sentite tutto a posto? Sì, sì, ti sentiamo benissimo. Benissimo, allora, il titolo mi pare eloquente, io e l'intervento di Laura Guerra che seguirei il mio affrontiamo un problema di cui non si parla mai o almeno non si parla, si parla raramente in eventi come questo e quindi è importante che gli organizzatori abbiano deciso di porre all'ordine del giorno questo argomento. Cioè non si parla mai di quella che è la risposta che la maggioranza dei cittadini italiani hanno a un problema di disagio mentale, cioè la prescrizione di un farmaco. E io credo che noi dobbiamo capire che in questo momento noi abbiamo a disposizione da un po' di anni in realtà una serie di appelli, una serie di interventi che sottolineano qual è la situazione critica e che mette in luce i gravi limiti dal punto di vista scientifico e dal punto di vista dei riflessi sulla pratica della disponibilità di psicofarmaci che noi costantemente utilizziamo. Possiamo andare avanti nella prossima diapositiva. Ecco, benissimo, allora, molto brevemente. Qui ci sono tre interventi che già datano di alcuni anni fa, 8-10 anni fa, in cui tre esponenti dell'establishment di tipo di psichiatrico lanciavano una sorta di appello. Tyer, che allora era il direttore della British Journal of Saicari, dice è tempo di dire, di porre fine all'era inaugurata dall'introduzione degli psicofarmaci antipsicodici nel 1952. Nel senso che dobbiamo capire che questo non è più un approccio importante e significativo per la cura delle psicose. De Leon, che era il guest editor di una più importante rivista di psicofarmacologia, diceva che gli sembrava che gli psichiatri negli Stati Uniti non si rendessero conto che il futuro della psicofarmacologia è nero. Pibiger, che era, non era un psicologo, né uno psichiatra, né una rappresentante dei movimenti alternativi alla psichiatria. Era, e era, quando scrisse questo intervento, il vicepresidente delle ricerche nel campo della neuroscienza della ELAI, cioè una delle più importanti aziende farmaceutiche. Andiamo avanti. Allora, qui l'ho tradotto in italiano, lo dico molto brevemente. E diceva Pibiger che la psicofarmacologia è in crisi, i dati sono sotto i nostri occhi, da oltre 30 anni non un solo farmaco nuovo ha raggiunto il mercato della psichiatria. E questo già sta avendo allora e tuttora conseguenze, perché c'è una riduzione di investimenti su nuovi farmaci, sia da parte delle aziende e sia da parte delle agenzie pubbliche. E lui diceva una cosa che sembra ovvia, almeno per i medici, che però non mi pare sia tenuta in considerazione. Cioè, dato che non c'è un substrato biologico coerente per problemi eterogenei come le psicosi, la depressione, eccetera, eccetera, non sorprende che la ricerca abbia fallito, perché non c'è un motivo razionale per pensare che ci possano essere terapie specifiche per questi problemi. Allora, andiamo avanti. Allora, quali sono i motivi per cui non si fa più ricerca in psichofarmacologia? Prima di tutto, che una serie di studi grandi e importanti, finanziati pubblicamente, sottolineo, e non dall'industria, hanno dato risultati dubbi o negativi sulla efficacia dei farmaci più importanti nel contesto reale, qui si riferiva alla DHD e alla depressione, alle psicosi, che tutti i farmaci non sono, che i farmaci introdotti sul mercato, che gli psichiatri, noi psichiatri, io lo so, gli psichiatri hanno considerato un'innovazione, non sono nessun tipo di innovazione rispetto a quelli presenti sul mercato da 50, 60, 70 anni, che non ci sono bersagli molecolari per le terapie, non sappiamo che gli studi clinici in farmacologia, psicofarmacologia, hanno grossi limiti metodologici che ora vengono messi in luce perché c'è una maggiore attenzione alla qualità della ricerca, che ci sono gravi conflitti di interessi che influenzano la gravità, la validità dei risultati delle ricerche e che le aziende farmaceutiche, sono state, tutte le più importanti aziende farmaceutiche, sono state colpite da sanzioni in multe in molti paesi del mondo per attività illegali connesse alla promozione sul mercato degli psicofarmaci. L'investimento per gli psicofarmaci non è stato un investimento di tipo scientifico, perché i scientifici non hanno prodotto nulla negli ultimi 50 anni, ma è stato di marketing e il marketing come vedremo avuto successo. Andiamo avanti, molto brevemente, questo è un elenco non del tutto aggiornato, di multe che sono state combinate alle più importanti aziende farmaceutiche che in questo caso producono antipsicotici negli Stati Uniti per tutta una serie di gravi comportamenti, corruzione, promozione illegale, promozione dell'uso dei farmaci off-level, cioè per prescrizione diversa da quelle che dovrebbero seguire, ghost writing, cioè scrivere articoli con il nome di un importante psichiatra in maniera che venga diffuso. Questa è la situazione delle case farmaceutiche. Andiamo avanti, guardiamo ora, ma c'è un problema di conflitti di interesse che riguarda la categoria degli psichiatri. Ora, questi sono dati negli Stati Uniti. Purtroppo non abbiamo dati, né per l'Italia né per altri paesi europei. Negli Stati Uniti è stata promulgata alcuni anni fa una legge che obbliga a indicare i destinatari dei contributi e delle donazioni da parte dei soggetti privati. E in base a questo i risultati che sono stati, che gli autori che hanno scritto questo articolo sono andati a verificare, ci dimostra che in un anno questa è la somma totale dei contributi e gli aiuti economici che le aziende farmaceutiche hanno dato agli psichiatri negli Stati Uniti. Vedete che la somma totale è una somma totale di 110 milioni di dollari e vorrei che noi capissimo una cosa. Questo conflitto di interesse non riguarda il cosiddetto comparaglio. Questa è una visione ingenua, ottocentesca, che le case farmaceutiche danno qualche soldo a chi fa le ricette per prescrivere la bilifai o il serenasi. No, perché questo riguarda, sì, il 97% degli psichiatri americani hanno ricevuto soldi, sì, ma pochi soldi hanno ricevuto in media 180 dollari in un anno. Il 2% degli psichiatri, quelli che contano, hanno invece ricevuto una media di 60 mila dollari all'anno. Cioè le case farmaceutiche non è che sono così, hanno dei criteri di marketing, loro vanno a cercare i cosiddetti influencer, cioè le persone che per la loro posizione, per il loro prestigio, sono in grado di influenzare la pratica prescrittiva. Poi non gli interessa se il singolo medico fa una ricetta in più, una ricetta in meno. O una ragione grande. Questo è un grosso problema. Andiamo avanti. Cosa significa questo in termini di psicofarmaci? E veniamo all'Italia. Questo è il consumo degli psicofarmaci in Italia in dosi medie per mille abitanti delle tre categorie più importanti di psicofarmaci, con la tendenza degli ultimi anni, dal 2014 ad oggi. Allora, come vedete abbiamo tre categorie, il benzo di azepine 54 dosi giornaliere per mille abitanti, gli antidepressivi 44, gli antipsicotici 10. L'aumento è stato molto rilevante per il benzo di azepine, guardate la differenza, rilevante per gli antidepressivi, meno rilevanti per gli antipsicotici che rimangono dei farmaci di nicchia che ovviamente hanno un target limitato. Ma gli antidepressivi e le benzo di azepine hanno un consumo a livello di massa. Io vorrei che ci capissino cosa significano questi dati. Significa che oggi, mentre noi stiamo parlando, ci sono in Italia circa 2 milioni e 700 mila persone che prendono una dose di antidepressivi e più di 3 milioni che prendono una dose di benzo di azepine. Questo è un consumo di massa che va molto al di là del problema solamente dei servizi di salute mentale, perché queste prescrizioni avvengono in larghissima misura anche nella medicina generale. Andiamo avanti, guardiamo la tendenza, questa è la tendenza degli antidepressivi in Italia. In 20 anni le prescrizioni di antidepressivi in Italia sono raddoppiate senza che ci sia una evidenza di qualsivoglia aumento dei problemi che dovrebbero essere curati da questi farmaci. E senza che ci sia stata una riflessione critica su qual è la reale utilità di questa prescrizione. Io credo che noi possiamo dire, come ricercatori, noi dobbiamo dire che questo consumo massiccio di farmaci antidepressivi è un problema di sanità pubblica molto rilevante, più rilevante se mi si permetta dell'uso della pistola elettronica che riguarda un numero molto limitato di persone. Questo fenomeno riguarda milioni di persone ogni anno e la responsabilità di questo è legata anche in larga misura alla pratica prescrittiva di coloro che hanno il potere di prescrivere i farmaci. E quindi su questo noi dobbiamo intervenire, su questo noi dobbiamo decidere. Perché questa prescrizione così massiccia di questi farmaci comporta effettivamente approcci, comporta un uso prolungato nel tempo e comporta una sostanziale inefficacia per quello che è il modo in cui noi ci approcciamo alla depressione. Andiamo avanti, vado in fretta, questa è una tendenza mondiale, anzi in Italia non è tra i peggiori paesi. Prego, vi prego di notare la tendenza in paesi che noi non ci aspetteremo come in Portogallo, Australia, eccetera. Andiamo avanti. Servono i farmaci? Sì, qualcosa serve, ma non molto. Questa è la differenza. Il tasso di risposta a breve termine di confronto a tranti psicotici e poi c'è in termini di un miglioramento rilevante, rilevante, non di qualcuno che uno sta un po' meglio ma che sta bene. Il contributo dei farmaci è poco più del 20%, con una differenza del 10% rispetto al placenta. Cioè c'è una limitata, c'è una efficacia, ma è limitata, intendiamoci, molto limitata. Andiamo avanti. Andiamo avanti sulle ricadute. Questo ci torna un attimo indietro, Antonio, per la precedente. C'è una prevenzione delle ricadute? Sì, certo, c'è, è vero, ma poi vedremo che ha dei costi nel lungo termine. E comunque sempre parliamo di successi che sono, con percentuali di insuccesso, che sono del 35% il 40% anche dopo anni di terapia. Andiamo avanti. E il problema, guardate, pochissime ricerche hanno detto che cosa pensano dei farmaci, degli psicofarmaci, quelli che li prendono. In questo caso, questi autori, Reed Williams, hanno fatto una ricerca su un campione ampio di persone in cura con farmaci antipsicotici. E gli hanno chiesto qual è la loro percezione dell'efficacia di questi farmaci. E questo è il risultato. Guardate che questa differenza ci fa capire che la percezione che hanno le persone con problemi di disturbi che vanno sotto l'etichetta di psicotiche di farmaci è una percezione sostanzialmente corretta. Loro dicono, sì, migliorano un po' i sintomi. È vero. Un quarto dicono molto meglio, altri un po' meglio, ma sulla qualità della vita no. Quindi c'è una discrepanza tra il miglioramento sintomatico, che è riconosciuto anche da chi prende, in qualche misura, anche da chi prende i farmaci, e un impatto negativo sulla qualità della vita. E quindi allora noi ci domandiamo, ma il fatto che noi domandiamo l'efficacia dei farmaci, solo su questo indicatore sintomatico, non ci fa trascurare il problema del benessere soggettivo della qualità della vita, discorso a cui Sarandis ha accennato nel manifesto dei sottotamentali. Andiamo ora. Però ci sono dei problemi, ci sono degli effetti avversi, certamente. Parliamo dei farmaci antipsicotici. Questa è una revisione sistematica che è stata fatta sul rischio di mortalità per i pazienti che hanno più di 60 anni a cui vengono prescritti per qualunque motivo gli antipsicotici. Il rischio di mortalità è sostanzialmente raddoppiato. E questo dato viene da tutti gli studi che sono stati fatti in tutto il mondo. E voglio segnalare che nelle RSA italiane, guardate questo dato derivante da uno studio fatto da Musico. Questo studio è stato fatto sui pazienti anziani all'RSA. Si arriva a quasi quattro volte un rischio di mortalità. Ed è il dato più elevato, cioè l'Italia, le RSA italiane detengono il record di esposizione di pazienti anziani al rischio di morte per somministrazione inappropriata e inutile di questi farmaci. Andiamo avanti. Passiamo all'altro estremo. Abbiamo visto gli anziani, guardiamo i giovani e guardiamo che cosa significa dal punto di vista degli effetti avversi nei giovani, quelli che hanno un esordio psicotico, riguardo a un effetto collaterale che è ben noto che è quello della differenza dell'aumento di peso. Allora noi vediamo che in 12 settimane la prescrizione di olanzapina comporta una differenza tra prendere olanzapina e non prenderla di 6 kg per le persone che lo prendono. Questo avviene per tutti i farmaci, questa differenza con valori minori. In un anno chi prende un esordio psicotico a cui noi prescriviamo olanzapina si deve aspettare un aumento medio di peso di 10 kg rispetto a non prenderlo. Capiamo questo che cosa significa per persone giovani, ma non so perché è brutto essere grassi, ma perché c'è un rischio a lungo termine di diabete, di hit, c'è eccetera. Andiamo avanti. se poi si va anche verso la sintesi conclusiva del tuo intervento. Arrivo alla sintesi conclusiva molto rapidamente. Vai avanti Antonio, questo saltalo, c'è un problema di evidenza anche di danni neurologici, vai avanti. C'è un costo e questi possibili danni neurologici sono intrinseci all'attività dei farmaci. Andiamo avanti. Approcci non farmacologici hanno effetti sovrapponibili anche sui sintomi, oltre a non interferire con la qualità della vita. Andiamo avanti, avanti, avanti. Questo è uno studio che ha dimostrato che anche in pazienti che rifiutano i farmaci si possono fare questi interventi che sono utili. Andiamo avanti. questo non ne parlo. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Ecco, questo voglio dire l'ultima cosa. Il problema della inappropriatezza e del rischio connesso all'uso dei farmaci esiste nei servizi psichiatrici italiani, anche in quei servizi che praticano modalità innovative e alternative di trattamento. Questo è uno studio che è stato fatto sulla appropriatezza della terapia farmacologica in tre dipartimenti di salute mentale italiana, che io non dirò quali sono, ovviamente. Vorrevo notare che uno di due, per esempio, guardiamo il problema della prevenzione e monitoraggio degli effetti metabolici. Terapia farmacologica antipsicotica. C'è un rischio di interferenza con il metabolismo glicidico e lipidico che produce effetti collaterali importanti a lungo tempo. Perché questo venga evitato bisogna prevenire, quindi controllare quello che succede quando io do un farmacologico antipsicotico. In uno, in questo problema, nel 70% dei casi, questi tre dipartimenti, non venivano verificati questi effetti. Il dipartimento che aveva un tasso di trascuratezza in questo campo, 92% di casi in cui non c'era alcuna evidenza del controllo di questi aspetti, è un servizio bellissimo. Porte aperte, gruppi di autoaiuto dei pazienti, seminari sulla recovery, la guarigione, come lo vogliamo chiamare, e tante altre belle cose. Però, in questo contesto innovativo, i medici prescrittori non si preoccupano di verificare se i pazienti a cui stanno dando i farmaci antipsicotici, che vengono dati a quasi tutti i pazienti o antipsicotici, comportano un rischio grave di diabete, us eccetera. Quindi il problema dell'emergenza antiparmacologica è un problema grave in termini di salute pubblica, in termini di trascuratezza, che deve essere affrontato con un problema specifico di cattiva pratica e di rischi iatrogeni per la salute. Mi fermo qua. Grazie moltissimo Angelo. Siccome io non ho timore a dire dei luoghi, azienda USL Toscana Sud-Est Arezzo, SERD, gli antipsicotici vengono dati come farmaco avversivante, diciamo così, l'effetto della cocaina. Ci sono studi su questo oppure in realtà si va avanti per una deriva a cercare di trovare qualcosa che contrasti l'effetto di sostanze, che non so a questo punto quale sia il male peggiore. Scusate la mia provocazione e chiaramente non volevo occupare spazio io, ma lasciare la parola a Laura Guerra. Si vedono le slide? Sì, benissimo, grazie. Bene, ringrazio gli organizzatori per questo invito. Io sono Laura Guerra, sono biologa e farmacologa. Sono una degli amministratori del sito Matinitali, che è affiliato al MAD in America e alla rete internazionale MIA Global. I MAD si occupano di informazione scientifica, raccolta di testimonianze e altro nell'ambito della salute mentale. Il titolo della mia presentazione di oggi è i recettori non mentono la realtà dei trattamenti con antipsicotici. Sul tema degli antipsicotici io ho tradotto il libro di Joanna Moncrief, Le pillole più amare, la storia inquietante dei farmaci antipsicotici. Joanna Moncrief è una psichiatra inglese di spicco, cofondatrice di Critical Psychiatry Network, collaboratrice della Cochrane Collaboration e autrice di moltissime pubblicazioni scientifiche. Perché la traduzione del libro? Perché secondo il mio punto di vista c'era la necessità di una pubblicazione autorevole che analizzasse attraverso la letteratura scientifica la reale efficacia degli antipsicotici e la loro sicurezza. Il libro è a carattere scientifico ma adatto anche a utenti e familiari. Nel corso della narrazione del libro la Moncrief presenta le tre tappe principali che hanno decretato l'enorme successo dei farmaci antipsicotici sul mercato e partendo dal primo punto che riguarda il fatto che sono stati presentati come farmaci che prendono di mira le basi organiche della schizofrenia. Il secondo punto riguarda invece il fatto che le case farmaceutiche abbiano taciuto gli effetti collaterali fino a che hanno potuto. Il terzo punto è l'incremento del mercato con l'ampliamento dei criteri diagnostici del disturbo bipolare e della DHD oltre alle vendite off-label. Nel corso della presentazione esaminerò punto per punto queste tre tappe. A cominciare dalla prima, cioè i farmaci sono stati presentati come farmaci che prendono di mira le basi organiche della schizofrenia. Cioè si è detto la schizofrenia è un disturbo di origine organico e gli psicofarmaci agiscono sul disturbo. Per spiegare meglio questo concetto la Moncrief mette a confronto i due principali modelli d'azione del farmaco che si usano in psichiatria che sono il modello d'azione centrato sulla malattia e quello centrato sul farmaco. Quello centrato sulla malattia in pratica riflette quello che noi chiamiamo sempre il modello organicista o biomedico che vede gli psicofarmaci come correttori di uno stato celebrale anomalo. In tanti si saranno sentiti dire dallo psichiatra che sono psicotici perché hanno troppa dopamina o sono depressi perché hanno poca serotonina. E quindi i farmaci sarebbero dei trattamenti medici che agiscono sulle basi della patologia psichica. Un esempio di questo funzionamento è dato dall'insulina per il diabete. Se ad esempio io sono diabetica il mio organismo produce poca serotonina e quindi devo assumerla dall'esterno per riequilibrarmi. Passando adesso al modello d'azione centrato sul farmaco che è contrapposto a quello centrato sulla malattia. I farmaci sono presentati come sostanze psicoattive che creano uno stato cerebrale anomalo alterando l'espressione dei disturbi attraverso un loro effetto specifico. Un esempio di questo funzionamento è dato dall'alcol per l'ansia sociale. Ad esempio se io sono ansiosa e non riesco ad uscire di casa per fare la spesa o ad andare ad una festa con qualche calicino di vinello mi scende l'ansia e riesco a fare le mie cose. Questo però non significa che il mio cervello abbia uno squilibrio chimico e in particolare che gli manchi l'alcol ma che l'alcol ha un suo effetto psicoattivo specifico che mi è utile in quel particolare momento. E lo stesso vale per gli psicofarmaci. Sono sostanze psicoattive ma non vanno a riequilibrare niente. Allora quale di questi due modelli è valido? Allora le evidenze scientifiche sostengono la validità del modello centrato sul farmaco. I farmaci antipsicotici quindi agiscono alterando le normali funzioni del sistema nervoso sopprimendo nell'attività complessiva e creando un distacco emotivo dalle reali cause che creano la sofferenza psichica. In questo modo provocano cambiamenti della percezione dell'umore, della coscienza e del comportamento. Cioè non agiscono sui miei problemi ma con l'antipsicotico io li sento meno e soffro meno. Quindi anche i pensieri si possono rimettere a posto. I pensieri psicotici se soffro meno si possono rimettere a posto. Il farmaco quindi secondo questo modello non ripristina uno squilibrio chimico del cervello ma agendo lo crea proprio e lo squilibrio chimico prodotto dal farmaco è responsabile dei fenomeni di tolleranza e di assuefazione. Cosa significa tolleranza e assuefazione e di qui il titolo i recettori non mentono. Non è mai stato dimostrato uno squilibrio chimico del cervello anche in presenza di manifestazioni della sofferenza psichica. Cioè posso essere depressa e stare male malissimo o psicotica e avere pensieri slegati dalla realtà ma il mio cervello non mostra squilibri rilevabili. Gli antipsicotici agiscono da antagonisti della dopamina e causano per il principio dell'omeostasi una upregolation cioè un aumento del numero dei recettori dopaminergici ed un aumento del rilascio di dopamina dal neurone presinaptico. Quindi dopo un certo periodo di uso il mio cervello viene proprio a trovarsi in una situazione anomala e di squilibrio e si verificano quindi i due problemi di tolleranza che significa che dopo un periodo di uso il cervello per il principio dell'omeostasi che si oppone al cambiamento esterno indotto dal farmaco neutralizza l'azione del farmaco e quindi io per avere un qualche effetto dovrò o aumentare le dosi oppure cambiare il farmaco perché lui non fa più effetto. La sua effazione significa che se io tolgo di botto il farmaco il cervello si viene a trovare essendo in una condizione di squilibrio mi può dare una una reazione di astinenza potenzialmente pericolosa. Molti dei sintomi psichici che si verificano all'astinenza del farmaco vengono interpretati da molti psichiatri come sintomi di una ricaduta e non vengono riconosciuti invece come effetti dell'astinenza al farmaco. Passiamo ora al secondo punto che ha decretato l'enorme successo degli psicofarmaci e riguarda il fatto che le case farmaceutiche hanno taciuto finché sono riuscite gli effetti collaterali degli antipsicotici e quindi la natura dell'ipotesi della natura organica della schizofrenia quindi la teoria degli squilibri chimici e la presentazione degli antipsicotici come farmaci che agiscono sulle basi biologiche del disturbo ha fatto passare in secondo piano gli importanti e anche invalidanti effetti collaterali ad essi legati che sono atrofia cerebrale, diabete, sindrome metabolica, decinesia tardica, riduzione del costo della vita anche di 15-25 anni se il trattamento perdura per lunghi periodi ad alte dosi. Anzi questi importanti effetti collaterali sono stati inizialmente attribuiti alla condizione, alla schizofrenia. Ma cosa succede? Negli anni 80 tragedia per le case farmaceutiche risulterà chiaro che questi effetti non sono dovuti alla schizofrenia ma in realtà sono proprio legati all'uso degli psicofarmaci e c'è un crollo del mercato a causa delle cause legali degli utenti che chiedono il risarcimento e i danni per la discinesia tardiva. Si è visto infatti che aumenta, la frequenza della discinesia tardiva aumenta man mano che passano gli anni, è associata ad un decadimento cognitivo globale con compromissione della memoria, è associata ad un aumento dei sintomi psicotici tardivi, quindi alla psicosi tardiva da ipersensibilità alla dopamina ed è associata ad un aumento dei rischi di morte precoce. Ma a risollevare le sorti, sempre in questi anni, alle sorti del mercato, arrivano gli antidepressivi di seconda, scusate, gli antipsicotici di seconda generazione, quindi entrano in campo risperd, alziprex, abilify, seroquel e clozapina, che vengono presentati come farmaci a basso rischio di discinesia tardiva. Si allarga quindi di nuovo il mercato attraverso le prescrizioni off-label, le prescrizioni per il disturbo bipolare, come coadipanti degli antidepressivi, per l'ansia, disturbi del sonno e addirittura per il comportamento dei bambini che ricevono la diagnosi di ADHD. Grandi studi come il CATI comunque riveleranno che non c'è una grossa differenza nell'induzione della discinesia tardiva tra i farmaci di prima e di seconda generazione, quindi tra i tipici e gli attipici. Anzi, i bambini sono molto più sensibili allo sviluppo di discinesia tardiva e di diabete con quelli di seconda generazione. Ma perché se i bambini sono così sensibili il mercato si è allargato a dismisura negli Stati Uniti, ma attualmente si sta allargando moltissimo anche in Italia proprio negli ultimi anni, si è allargato per il marketing aggressivo e fraudolento delle case farmaceutiche. Come diceva l'angelo verbato che mi ha preceduto, personaggi che sono in grado di influenzare il mercato come Joseph Biderman e i suoi colleghi hanno incassato milioni di dollari dalle case farmaceutiche per promuovere l'uso degli psicofarmaci nei bambini attraverso la redazione delle linee guida e hanno promosso tutte le classi di psicofarmaci, quindi antipsicodici, stimolanti, litio eccetera. Hanno esteso addirittura la diagnosi di disturbo bipolare nei bambini di due anni e hanno esteso l'uso degli antipsicotici e di altri psicofarmaci nel controllo del comportamento dei bambini che ricevono la diagnosi di ADHD. Ma sono davvero efficaci questi antipsicotici? In realtà l'ampia letteratura che li prescrive, che li ha presentati come farmaci efficaci per la prevenzione delle ricadute contiene dei bias, cioè gli studi clinici sono stati disegnati in modo da dimostrare quello che le case farmaceutiche volevano che venisse dimostrato. Questo è un discorso lungo e non c'è il tempo per trattare questa cosa, ma è molto importante. Le persone in trattamento con l'anzapina, ad esempio in uno studio di Wino Corearis del 2005, hanno rivelato che le persone in trattamento hanno avuto una ricaduta in meno della metà del tempo rispetto a chi non era in trattamento farmacologico. In un altro studio, chi non assume antipsicotici a lungo termine sta meglio di chi le assume. Infine, prima dell'avvento degli antipsicotici, il 22% delle persone si riprendeva completamente da una crisi psicotica nel giro di 5 anni e un 58% si riprendeva e aveva rarissime ricadute nel corso della vita contro il 10%, quindi si compara circa un 80%, contro un 10% di superamento della crisi nelle persone che restano in trattamento farmacologico. Le ultime due slide, finisco. concludendo, possiamo dire che gli antipsicotici agiscono sopprimendo l'attività del cervello e creando un distacco emotivo dalle reali cause che generano una sofferenza psichica e dalla percezione della sofferenza. A lungo termine possono provocare effetti collaterali, a volte irreversibili, e li abbiamo visti, quali sono? possono essere invalidanti e abbreviare il corso della vita e quindi gli antipsicotici possono avere degli effetti positivi a breve termine perché permettono di rientrare abbastanza brevemente da una crisi psicotica, ma a lungo termine creano più danni che benefici in quanto dai dati presentati risulta chiaro che cronicizzano aumentano i disturbi e nel tempo aumentano la probabilità di ricaduta. Quindi per usare quel tanto che basta il farmaco in modo da rientrare da una crisi e affrontare delle terapie realmente rivolte al superamento della crisi come una buona psicoterapia, occorre un buon metodo di sospensione degli psicofarmaci e a questo scopo ho tradotto il libro di Peter Bragin, uno psichiatra americano, dal titolo La sospensione degli psicofarmaci, un manuale per i medici prescrittori, i terapeuti, i pazienti e i loro familiari. Questo perché, lo dicevo prima, quando si sospendono velocemente o male non solo gli antipsicotici ma tutte le classi di psicofarmaci, la crisi di astinenza si manifesta anche con sintomi psichici che vengono interpretati come ricadute, in realtà sono delle crisi di astinenza e quindi il processo di sospensione degli psicofarmaci è un processo fondamentale per un buon uso, un corretto uso degli psicofarmaci. Nel libro viene rappresentato il metodo collaborativo centrato sulla persona che si è rivelato un metodo molto efficace e sicuro anche nei casi di sospensione difficoltosa quando ad esempio il trattamento apertura per molti anni e anche decenni e quando c'è una politerapia, una multiterapia, cioè più psicofarmaci contemporaneamente. Grazie per l'attenzione. Grazie infinite a entrambi perché diciamo ci avete portato in uno spaccato molto di tipo scientifico, anche ieri e l'altro parlavamo delle basi scientifiche su cui anche impostare un lavoro di lotta perché sia una lotta di persone che abbiano anche delle conoscenze, delle competenze trasversali e necessarie. Stacchiamo quasi ma credo di no perché abbiamo chiuso con il distacco emotivo. Ecco rientriamo in questa quarta ed ultima sessione con quattro contributi. Accanto a me due donne, due storie diverse, due relazioni diverse ma risuonanti fra loro. Il corpo e la mente delle donne, cuori pensanti. Donna Pelle. Sì grazie. Quando mi ha invitato Emanuele, ringrazio sia lei che Medicina Democratica per questo invito, pensavo di essere un po' fuori posto perché io faccio la ginecologa di mestiere, ho sempre lavorato in un ospedale pubblico, continuo a lavorare nei consultori, ho la delega la sanità nel mio comune che è Brescia, lavoro in questo gruppo di salute, però insomma la mia attenzione è sulle donne. Poi in realtà ho guardato un po', ho pensato alle tantissime donne che ho incontrato e mi sono accorta di quante volte mi hanno consegnato la loro vita attraverso il linguaggio del loro corpo. E allora ho detto no, forse è il posto giusto, quindi da lì ho preso coraggio proprio per incontrarvi. Perché cuori pensanti? Mi permetto di ricordarlo, sicuramente lo saprete. Sono entrati nel linguaggio filosofico con Laura Boella ma sulla base della mia esperienza e della mia pratica clinica e mi viene da dire etico-politica, in realtà fanno parte del mio linguaggio. Che cosa portano i cuori pensanti delle donne? Lo scrisse nei suoi diari è Tillesum, portano passione, portano sentimento e portano empatia. Sono un po' il segno dell'apertura sul mondo che parte dalla storia biografica delle donne. Perché l'importante è essere calati nel tempo, sentire col cuore, trovare il punto di congiunzione tra la propria persona e l'andamento del mondo, insomma avere la propria visione umana della storia. Qui faccio un piccolo inciso. Abbiamo già prontato insieme all'associazione Orlando di Bologna, al collettivo femminista Cattive Ragazze di Roma insieme a me, abbiamo fatto una carovana di genere a proposito di pace, a proposito di discorsi differenti sulla guerra e la pace. In collaborazione con un gruppo di donne e di associazione LGBTQIA di Dnipro, quindi vicino al Donbass, abbiamo già fatto una carovana di farmaci per la tutela della salute riproduttiva, abbiamo mandato anche la RU486 per l'aborto farmacologico, farmaci per la transizione, stiamo mantenendo una relazione con loro, ci stanno chiedendo anche cose. Questi sono un po' i cuori pensanti, era un po' questo che volevo dire. E questa scelta di sentire, di sentire così non è per niente facile, è un fardello ingombrante, difficile liberarsene. Ovviamente mi vengono in mente, questo per entrare poi nel merito della mia conversazione che non sarà lunghissima, le tre guinee di Virginia Wool, perché lei parlava di differenza femminile, perché la libertà si sviluppa solo con la libertà, nessuno te la concede. D'altro canto, e questo è l'ultimissimo passaggio, perché se una critica è una critica affettuosa, posso fare gli interventi stamattina, non ce l'ho gli altri giorni, perché sono un po' surclassata nel mio lavoro in comune e non solo, è che ho sentito troppo poco parlare delle differenze anche nella salute mentale tra uomini e donne. Non sono tutti uguali i malati e le malate di salute mentale, sono storie diverse, approcci diversi. Ecco, per esempio la differenza femminile è diversa dalla parità. La parità è un criterio mutilante, perché pareggia assurdamente la fecondità della mente, appunto il cuore pensante con quello maschile. Ad esempio io trovo che la conciliazione, il mettere sullo stesso piano, è irrealizzabile, perché sacrifica tutta la potenza che hanno in sé le donne e pospone i cambiamenti nella cura, nell'organizzazione della città, nell'organizzazione del lavoro che parte da questo. Quindi è chiaro che le donne e i loro diritti abbracciano non solo il contesto sociale, economico, politico a partire dal loro essere donne, ma anche e soprattutto quello legato alla propria salute fisica e mentale. Voi sapete, l'avrete letto, l'ultimo Gender Equality Index che è stato pubblicato a ottobre dell'anno scorso, è venuto alle stampe più o meno i primi mesi quest'anno. Il 39% delle donne afferma di non potersi permettere per denaro e per tempo, e sottolineo per denaro e per tempo, percorsi di psicoterapia o cure specialistiche. E questo è un po' il primo tassello della mappa attorno a cui volevo girare. Eppure siamo proprio noi donne a riferire un peggior stato di salute e di salute mentale, sempre secondo quel rapporto a fronte di un 62% di donne che dicono di stare bene, gli uomini sono già al 66%. Ma la popolazione femminile, lo sapete perché se tutti esperti, più di me, ha una probabilità due volte superiore di andare incontro a ansia e a depressione, ma non mi interessano tanto i numeri qua, quanto che le motivazioni sono sfaccettate, plurime. Tre hanno ricevuto un'attenzione e qui vanno dette, l'aspetto economico, il ruolo di cura e il tempo. Le donne guadagnano meno degli uomini, questo è acclarato, ci mancava solo il Covid per abbassare ulteriormente questa cosa. Hanno le pensioni più basse, quindi sono più esposte al rischio di povertà. Soprattutto, attenzione, se hanno figli, se sono anziane e se sono sole. Nella mia città la famiglia più rappresentata è la donna anziana sola, mediamente povera. Quindi è chiaro che la ridotta capacità economica incide inevitabilmente sul diritto alla salute e quindi sullo stato di salute. Pensiamo ai costi della psicoterapia e delle cure specialistiche. C'è il bonus psicologico, scusa, io non l'ho sentito dire stamattina, l'avrete detto nei giorni precedenti e chiedo scusa davvero. È chiaro che c'è molto da dire. Il budget basta per pochissime domande, sapete che le domande vanno fatte all'IMS, già lì mi immagino le persone che vi ho descritto adesso a fare la domanda all'IMS per avere il bonus. È diverso a seconda del reddito e comunque non verranno mai coperte le richieste perché lo stanziamento è bassissimo. Sarà accettato chi potrà entrare a beneficiarne in base alla graduatoria all'ISE che secondo me è di una cattiveria collettiva, secondo me la cosa che io mi propongo è, ma per fare cosa? Dove? Come? Il livello di qualità mi lascia molto perplesso. Poi noi in Lombardia, che siamo una regione brillante per queste cose qui, recentemente abbiamo licenziato anche lo psicologo delle cure primarie. Lo saprà benissimo il mio amico qui presente, era un po' che non ci vedevamo a mio letto, mi fa piacere ritrovarci. Però lo psicologo delle cure primarie, se volete leggere la delibera, in realtà è semplicemente una figura, pare dentro le case comunità che non ci sono ancora, a cui va la persona che è in difficoltà e questo signore le dirotterà sui vari servizi, cioè una specie di semaforo, basterebbe mettere un vigilo urbano. Quindi anche qui torna al discorso che è inutile continuare, è dannoso giocare su queste questioni, ma forse non era meglio potenziare i servizi territoriali, è di una banalità questa cosa, magari aumentando il personale, magari tornando a dire che nel PNRR è stata scordata la salute mentale. Insomma, io guardate, esco da una campagna elettorale molto pesante. Sapete che quando io nel dibattito elettorale ero capolista, mi ho trovato a incontrare cani e porci, scusate se dico così, ma così era. Quando io dicevo parliamo di sanità, sapete cosa mi dicevano? Non è tema nazionale, è tema regionale, non ne parliamo. A qualsiasi livello, a qualsiasi livello. Quindi, attenzione, vegliamo, perché questo è quello che accade a livello della politica. Torno indietro. Ruolo di cura, vi dicevo, dei figli, della casa, dei genitori anziani. Quindi c'è un carico emotivo e fisico importante. Però anche qui riflettiamo, perché come dicevo prima, al di là della malattia, che insomma io ne incontro poche, perché io vedo mediamente donne che vivono la loro vita tutti i giorni a casa loro, il genere femminile è più esposto al dolore psichico, però è anche la risorsa per le professioni di cura di chi è affetto da dolore psichico. Tant'è che, se vi ricordate, la tempesta Covid ha rivelato in maniera pensata e inopinata che il lavoro delle donne è essenziale, come se noi le donne non lo sapessimo già, perché la casa, i lavori di cura, eccetera. E la famiglia è diventata il baluardo intramontabile che sostituisce il sistema dei servizi, ricacciando le donne a casa, non voglio parlare del smart working, eccetera, di che cosa ha significato sulla salute mentale delle donne. E poi c'è il tempo, la mancanza di tempo. L'Istat l'ha detto che le donne dedicano cinque ore al giorno al lavoro non retribuito in casa, agli uomini poco meno di due ore, ma non è questo. Manca proprio il tempo per esistere, per sé. Quindi possiamo una prima banale conclusione, anche se sono molto veloce, che è chiaro che la salute mentale è un diritto, è una parola che corsa tanto oggi, però per le donne lo è un po' di meno, se non molto di meno. E vi dico un'altra cosa, 15 giorni fa in uno dei due carceri della mia città si è suicidata una donna di 50 anni, con due figli adolescenti a casa. Immediatamente la mia reazione è chi ho chiamato il Dipartimento di Salute Penitenziaria. Ho detto, boh, come fanno? Guardate, questa non era segnalata a noi. Non sapevamo avesse problemi. Quindi quando parliamo di diritti, parliamo di diritti di tutti e di tutte, di tutti, di tutte, anche delle persone private della libertà personale. Perché io ho fatto un gesto che mi è venuto spontaneo, si è suicidata, probabilmente aveva problemi di salute mentale. Ho semplificato e mi sono scusata con me stessa per aver semplificato. In realtà questa donna non era neppure segnalata, per dire. Quindi dico una cosa banale, se le persone stanno bene, se godono una qualità di vita soddisfacente, è chiaro che va bene così, non c'è ombra di dubbio. Però le donne vivono di più ma in peggiori condizioni di salute, tenendo chiusi nei loro scrigni, e io quei corpi li vedo, i loro cuori pensanti. C'è un gap nella diagnostica e nella ricerca ancora orientato sui corpi e vissuti maschili, ma dentro una rete di comportamenti e norme sociali legati al genere. Teniamolo sempre aperta questa porta. Ma perché la prima domanda che mi viene è, come mai, a prescindere dalla composizione della famiglia, dall'età, dal livello di reddito, dal paese di nascita, dalla disabilità, ma le donne riportano comunque condizioni di salute peggiori. L'abbiamo visto prima. Centrano le relazioni, ma il discrimine in ogni caso è la sofferenza percepita, dentro la solidarietà. Mi è piaciuto molto e dentro le relazioni. Mi è piaciuto molto chi ha parlato della relazione anche terapeutica. Le relazioni hanno a che fare con la comunità e le relazioni dentro la comunità e le relazioni dentro la terapia. La solidarietà è il cuore della buona relazione della comunità. Noi stiamo facendo questo lavoro come comune con i pazienti cosiddetti esperti, non mi piace per niente, sono tutte donne i pazienti esperti, tra l'altro. Non so perché anche lì si fanno cura della cura degli altri, però questo è un pensiero mio. Con le associazioni dei familiari, con la rete del dipartimento salute mentale, con i servizi sociali, col terzo settore, stiamo inventando cose, ma mancano le risorse, mancano i soldi, non c'è poco da fare e dobbiamo ricadere non so dove. Però anche qui io mi sono un po' stancata di stare accanto al dolore e al lutto, io ho bisogno per cambiare di stare accanto al desiderio di tutte queste persone, di queste famiglie, di cambiare. Abbiamo numeri drammatici, ho quasi finito, le donne perdono un anno ogni 10 per la depressione, gli uomini uno ogni 20, ricordiamocelo. Gli uomini certo non stanno meglio, però insomma l'abbiamo visto bene. Ricordo sommessamente che il tema della violenza, anche qui, il tema della violenza l'agiscono mediamente gli uomini contro le donne, però anche qui torno al bonus psicologico, basta col dare solo i bandi per contrastare la violenza alle donne e sappiamo bene che cosa porta. Io ho tantissime donne che seguo nei miei consultori che mi vengono da case di protette, ma basta con i bandi, ci vogliono finanziamenti strutturali, ma strutturali costanti. Io sfido, andate a vedere i programmi elettorali, vedremo quelli delle regioni, quanti hanno immesso questo tema sul tavolo e riguarda anche qui la salute mentale. Chiudo perché è chiaro che il tema è molto ampio, ma ci tenevo solo a chiudere su un tema che mi interessava molto, e cioè sul fatto del dolore femminile, perché il dolore femminile esiste ed è misconosciuto. Da poco l'endometriosi è stata considerata nei livelli essenziali di assistenza, sulla vulvodinia, sul dolore costante ai genitali esterni, nessuno dice niente, se non le organizzazioni delle donne e ne incontro tante, sono donne che non hanno più una vita relazionale, non hanno più una vita sociale, non fanno più l'amore. E perché questi termini non devono entrare? Sul riconoscimento della dismenorrea ci ha sul classato la Spagna come sempre, così come sui diritti mestruali, io ho provato a parlare di diritti mestruali in campagna elettorale, non vi dico che cosa è successo. È chiaro che questi sono i temi di cui dobbiamo parlare. Finisco, ricordiamoci che è vero, il corpo delle donne ha dei vuoti e dei pieni, ha dei ritmi che vanno rispettati. I pieni e i vuoti, la donna gravida e la donna non gravida, il grembo psichico, il grembo fisico, le rughe della menopausa, le tracce della propria vita, la libertà della propria vita. Però finisco con due frasi che io amo. Robin Lim, che è un'ostetrica, scrittrice, poetessa statunitense, stiamo lavorando molto sulla violenza ostetrica di cui nessuno parla, nessuno parla, non è solo violenza istituzionale, si chiama proprio violenza ostetrica. Crediamo che un inizio della vita sano e dolce sia il fondamento di una vita d'incanto e che la pace nel mondo può venire costruita cominciando oggi un bambino per volta. Ecco, ha ragione a Gianni Chedda quando diceva all'inizio della mattinata bisogna riorganizzare, rivoluzionare, dico io, a partire dai servizi. Una cattiva organizzazione dei servizi e una cattiva impostazione politica dei servizi. Chiudo con Alda Merini perché è un po' una frase che io ho scritta nella mia agenda ogni anno. Il mio animo era rimasto semplice e pulito, sempre in attesa di qualcosa di bello che si configurasse al mio orizzonte. Grazie di cuore. Grazie moltissimo Donatella, solo un inciso. In realtà in questa mattinata era stata invitata anche la rete Reama Pangea e Simona Lanzone e tutti loro poi sono disposti anche a collaborare con medicina democratica. Questo era un inciso necessario e dovuto perché credo sia molto importante includere anche il tema delle lotte delle donne e anche delle lotte a difesa e tutela delle donne che sono a rischio di violenza, anche quella taciuta, sottaciuta e con moltissimo piacere passo la parola a Giulia che credo sia in perfetta traiettoria rispetto a quanto anticipato da Donatella. Grazie e buongiorno. Sì, non solo la traiettoria è la stessa ma in realtà sono grata sia all'intervento di Donatella che a quelli precedenti per aver aperto il tema del diritto alla salute. Io lo declino su una popolazione specifica che è quella transgender. Il mio intervento parla magari anche in modo improprio perché mi faccio portavoce sia osservando queste dinamiche sia come professionista che lavora con le persone trans, mi faccio portavoce impropria non come persona trans ma spero di poter riportare sia con la mia esperienza sia con l'esigenza mia e dei servizi con cui collaboro le disuguaglianze di salute che la popolazione trans sperimenta dentro e fuori il percorso di affermazione di genere. Identità trans, varianza di genere, forse questi temi li avete sentiti nominare di più negli ultimi anni, nel dibattito pubblico sono emersi. Allo stesso modo c'è stato un riscontro anche nell'ambito della salute mentale e il problema è che non c'è stata altrettanta disponibilità dei servizi a uniformare delle prassi professionali che siano condivise come riflesso dell'impreparazione e dell'ignoranza rispetto a queste tematiche che è causa tra i vari elementi della disparità di salute sperimentata dalle persone trans. In questo contributo ho scelto di suddividere per semplicità di trattazione la disparità in due macro-categorie arbitrariamente scelte, quelle emergenti dal percorso di affermazione di genere e quelle caratterizzanti la negazione del diritto alla salute delle persone trans in modo più generale. Alcuni elementi che passerò in rassegna rispetto alle disuguaglianze possono essere definiti strutturali del percorso di affermazione di genere che forse conoscerete più comunemente come percorso di transizione. Questo percorso, per chi non lo sa, è regolato da una legge del 1982, una delle prime in Europa in realtà a regolare l'identità trans, la legge numero 164, che è una legge molto essenziale fatta di sette articoli, che nella sua vaghezza ha la virtù di prestarsi a delle letture che si sono diversificate nel tempo. Alla virtù è il limite, perché ovviamente questo ha fatto sì che ci sia stata una prevalenza di prassi professionali e di credenze o miscredenze anzi personali a sfavore di linee guida internazionali sulla salute delle persone trans, a sfavore delle istanze delle persone trans e soprattutto a sfavore del loro diritto all'autodeterminazione. Gli altri elementi di disparità di salute che affronterò a breve invece abbracciano in senso più ampio la negazione del diritto alla salute di persone trans che sono respinte o negate da un sistema che si forma su due principi, la cisnormatività e il binarismo di genere. Il presupposto che tutte le persone siano cisgender fino a prova contraria, non siano trans per semplificare e che di conseguenza lo standard sia quello della cisgenerità e che tutto quello che si discosta da questo sia considerato deviante. Deviante lo uso volutamente come termine perché in sé porta anche un'ottica patologica. Il binarismo di genere invece che cosa presuppone? L'esistenza di due soli generi, il maschile e il femminile, che sono opposti e complementari. Anche questo ovviamente non rappresenta le esperienze delle numerose persone che non rientrano all'interno di un modello così statico di genere. Ma come si declinano queste disuguaglianze di salute nell'ambito sanitario? Nell'ostacolo all'accesso ai servizi e agli spazi sanitari, nel rifiuto, nella negazione dei trattamenti, nel prolungamento dei tempi di attesa, vi lascio immaginare, la gerarchia dei diritti di salute soprattutto in tempi di Covid e per fare una sintesi, nel ricorso a trattamenti, a protocolli e a cure che non sono semplicemente pensati per le persone trans, ma sono in origine pensati per le persone cisgender e solo secondariamente declinati sulle esigenze di salute delle persone trans. Di nuovo, una gerarchia dei diritti. L'inadeguatezza dei servizi che oltre a essere specifici sono anche scherzamente distribuiti sul territorio, determina disuguaglianze che hanno ripercussioni dirette sul diritto alla salute. A dimostrazione di questo, una delle più frequenti esperienze riportate dalle persone trans è la necessità di dover educare gli stessi soggetti che dovrebbero essere garanti della loro salute. Quindi un rivolgersi al medico e alla medica e dover spiegare chi si è, quali sono i propri bisogni e quali sono i propri diritti. Scendiamo più nel merito dei due insiemi di negazione di diritto alla salute e di disuguaglianze che vi nominavo prima. I primi li ho chiamati limiti strutturali del percorso di affermazione di genere e mi riferisco alle disuguaglianze che emergono di per sé da un percorso che appunto è regolato da una legge che nella sua vaghezza ha fatto sì che si siano costituite delle prassi professionali e che però prevedono delle tappe che sono vincolanti, ma molto difficile da riassumere così, che sono vincolanti ma possono essere anche manipolate sulla base del percorso della persona stessa. Una premessa, le identità transgender sono state depatologizzate ormai nell'ultima versione del DSM e nel DSM 5 sono depatologizzate, non si parla più di patologia nell'identità trans ma comunque è presente il malessere associato alla varianza di genere, si parla di disforia. Disforia come malessere associato a un'incongruenza che però bisogna specificare non è di per sé un malessere intrinseco all'identità transgender ma è un malessere che può essere presente o meno in associazione a questa incongruenza. Ecco, il primo limite strutturale del percorso, la prima disuguaglianza su cui voglio porre attenzione è la prassi consolidata in Italia oggi nella richiesta di una diagnosi di disforia di genere per l'accesso ai trattamenti ormonali sostitutivi. Si sta aprendo un po' la comunità professionale ad accettare anche diagnosi di incongruenza di genere che già di per sé apre una minore patologizzazione, limita il senso di devianza intrinseco in una diagnosi che proprio nel nome porta il termine malessere. Tuttavia questa prassi consolidata della richiesta della disforia di genere porta all'evidenza una visione ancora patologizzante in cui la narrazione delle persone trans non può essere svincolata dall'ambito della sofferenza. È solo un soggetto sofferente di conseguenza bisognoso che può fruire di un percorso terapeutico e permettetemi correttivo che mira che cosa una ricollocazione all'interno di una categoria. Se un soggetto è incongruente ma non è sofferente che tipo di collocazione può avere? Quale tipo di affermazione può ricevere? La risposta in Italia ad oggi è vaga se non inesistente. Rimanendo sempre sulla diagnosi di disforia di genere sottolineo un altro limite strutturale del percorso che la vede come requisito necessario all'autorizzazione agli interventi chirurgici di rettifica di genere, quindi quelli affermativi e l'autorizzazione alla rettifica anagrafica di genere. Premetto, fino al 2015 in Italia era obbligatoria per legge per le persone trans una sterilizzazione chirurgica per poter vedere una rettifica dal punto di vista anagrafico e di genere. Dal 2015 e poi di nuovo dal 2017 con delle sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale c'è stato un cambiamento, si fa una richiesta unica per ricevere l'autorizzazione agli interventi chirurgici e la rettifica anagrafica e di genere che ovviamente ridà in mano alle persone transgender un minimo di autodeterminazione nel poter scegliere come proseguire il proprio percorso, nel poter scegliere di affermarsi. È vero è che nonostante questo avanzamento dal 2015 in poi la chirurgia è divenuta volontaria affermativa, sì a seguito di una sentenza vincolata a una dimostrazione di un percorso e quindi sempre di una sofferenza, però appunto una chirurgia volontaria affermativa se rispondente al requisito della sofferenza, devianza e in virtù di una rettifica o di una correzione. Si cerca sempre un ricollocamento come se non ci fosse una tolleranza al poter stare al di fuori di macrocategorie binarie e soprattutto legate a uno standard cisgender. L'autodeterminazione si confina a un piano secondario rispetto a una esigenza quindi di performance, di adesione alle aspettative. La prima frase con cui io apro ogni colloquio con le persone trans con cui svolgo percorsi di affermazione di genere è la richiesta di non fare una performance, richiesta che cade nel vuoto perché ovviamente io rappresento l'istituzione. In ogni caso l'aspettativa è quello, il dover dimostrare di essere abbastanza, il dover fingere, il dover aderire a delle norme molto specifiche binarie, ribadisco e di matrice cisgender. Un altro limite strutturale, parlavamo anche di costi e di diritto alla salute in questo, in precedenza scusate, è l'accesso al trattamento ormonale sostitutivo in gratuità, vincolato dal 2020 a un piano terapeutico emesso da una struttura pubblica con un'equipo multidisciplinare con comprovata esperienza. Questa formula ve la cito alla lettera in base alla determina AIFA del 2020, perché fino al 2020 il trattamento ormonale sostitutivo, che è un trattamento, attenzione, pensato per essere portato avanti a vita dalle persone trans, era completamente a carico delle persone. Solo nel 2020 l'AIFA, attenzione l'AIFA, non il Ministero della Salute, non gli ordini professionali, ma l'AIFA, ha divulgato appunto questa determina che permette l'accesso in gratuità, ma è un accesso apparente, è una gratuità da guadagnare, perché le condizioni sono molto stringenti e nuovamente molto vaghe. Deve esserci un piano terapeutico emesso da struttura pubblica con questa equip di comprovata esperienza. Come può essere dimostrata una comprovata esperienza di una struttura se fino al 2020 le persone non erano neanche contemplate all'interno di un percorso? Tra l'altro di una struttura che si colloca dove? In Italia i centri specifici sono collocati in aree urbane, vi lascio pensare alle difficoltà di accesso, sono pochi, sono principalmente nel nord e nel centro Italia, con qualche eccezione nel sud e praticamente assenti nelle isole. Quindi una riflessione anche su quanto sono contemplate le necessità di salute delle persone trans, anche in base ai servizi che esiscono e riescono a rispondere. Un'ultima considerazione legata ai limiti strutturali del percorso va nell'esclusione o nelle forti limitazioni legate alle identità non binarie, dalle prassi professionali legate al percorso di affermazione di genere e dalla rettifica anagrafica di genere. Se non c'è un'identificazione piena con maschile o femminile in Italia non c'è riconoscimento dell'esistenza dell'individuo, non c'è diritto alla salute nell'accedere al trattamento ormonale, non c'è un'autorizzazione alla rettifica. Cosa si risponde a queste persone? Non si risponde niente per ora, si risponde che devono fare una performance nuovamente binaria. Parliamo invece e poi vado verso la conclusione dei limiti di salute generale, della negazione del diritto della salute in senso un po' più ampio, quindi al di là del percorso di affermazione di genere. Una prima riflessione, parlavamo prima di farmacologia, va ai farmaci che vengono utilizzati per i trattamenti ormonali sostitutivi. Sono farmaci sviluppati per la salute delle persone cisgender, così come la farmacologia si basa principalmente sulla salute degli uomini ancora oggi, allo stesso modo nell'ambito della salute trans si parla di antiandrogeni che vengono somministrati alle donne trans per una femminilizzazione, che sono in realtà farmaci di solito prescritti agli uomini cisgender per la prevenzione del tumore alla prostata. Come effetto collaterale hanno sì una femminilizzazione, però la salute delle persone transgender non può essere basata sugli effetti collaterali di farmaci pensati per altri soggetti. Un secondo ostacolo, una seconda disparità di salute particolarmente rilevante e sono felice che Donatella mi abbia preceduto, riguarda la ginecologia e l'andrologia. Gli spazi non sono ancora connotati in senso di accoglienza anche per le identità che non sono racchiuse nel binarismo di genere e soprattutto non sono connotati per accogliere un uomo trans in un ambulatorio di ginecologia o una donna trans nell'andrologia. Non è soltanto una questione di accoglienza, di imbarazzo delle persone che devono e vogliono e magari hanno bisogno di rivolgersi a questi spazi, ma anche una questione di sicurezza nella possibilità di trovare un professionista competente e accogliente e accaduta anche nei protocolli che escludono questa identità. Penso ad esempio ai protocolli di screening per il tumore al collo dell'utero che escludono completamente gli uomini trans. Io lavoro con persone che fino a giorno 1 sono incluse proprio nel sistema sanitario, nel protocollo e dal giorno 2 smettono di ricevere la lettera perché hanno cambiato il nome maschile e a richiesta di essere inseriti forzatamente nel sistema la risposta è non esiste la casella M perché le caselle sono solo F per questo tipo di protocolli, eppure esistono uomini che hanno vagine, utero, ovaie, endometrosi, assolutamente. Un'ultima riflessione nella negazione dei diritti alla salute va alla crioconservazione di spermatozoi e ovociti. Di nuovo una zona grigia perché tutte queste disparità e disuguaglianze non hanno tanto a che fare con un atteggiamento come posso dire consapevolmente transfobico ed escludente, ma sono negazioni che derivano da una non contemplazione di identità altre. Il trattamento ormonale sostitutivo comporta nel tempo una riduzione e poi un'assenza di fertilità. Molte persone trans prima dell'inizio ricorrono alla crioconservazione, alla raccolta del materiale biologico pensando a un futuro reimpiego. Per le persone trans si crea un vuoto, una zona grigia nel momento in cui subentra la rettifica anagrafica di genere che fa sì che lo stesso materiale depositato non sia più possesso della stessa persona che è identica ma semplicemente ha cambiato nome e genere. Quindi queste persone vanno incontro a trattamenti medici, spese, immaginate anche il vissuto psicologico che accompagna, che viene poi frustrato dal fatto che c'è un'assenza di tutela. La stessa persona non è più in possesso del materiale che aveva depositato magari l'anno precedente, semplicemente. Per concludere, quali sono le conseguenze di queste disparità e disuguaglianze che poi sono solo alcune delle principali che oggi condivido con voi? Una maggiore vulnerabilità psicoemotiva, un più elevato rischio di disagio psicologico che è variamente espresso, condotte di evitamento, le persone trans evitano attivamente gli spazi sanitari e forse quello che trovo più pericoloso è l'abituazione all'impotenza, l'apprendimento della tolleranza. La soglia di tolleranza è spostata sempre più in alto, l'aspettativa è che di per sé ci sarà una discriminazione per le persone trans che fanno un accesso a questi spazi e ci sono accettazioni di contingenze esterne e ricalibrazione dei bisogni e dei diritti di salute. Non a caso la popolazione trans è la popolazione con il più elevato numero di infezioni al tratto urinario. Parlo di tolleranza, parlo di persone che non hanno uno spazio per poter esercitare un bisogno primario. Non a caso la popolazione adolescente trans è quella con il più elevato tasso di autolesionismo non suicidario e suicidario appunto in adolescenza. L'appello con cui concludo e che vi rivolgo è di cercare di contrastare attivamente le disuguaglianze di salute interrogandoci in prima persona sulle nostre prassi professionali, se contempliamo meno identità altre rispetto a quelle normali ma normali statisticamente alla maggioranza delle persone che incontriamo e di cui ci dobbiamo prendere cura e considerare il peso della vulnerabilità effettiva o potenziale sperimentata dalle persone transgender a prescindere dall'accesso o meno ai servizi sanitari. Dobbiamo rifondare dei modelli di trattamento che non siano più un ripiego rispetto a quello che è già stato pensato per l'identità cisgender e che cerchino di mettere in discussione questa gerarchia dei diritti di salute. Un intervento davvero necessario per cui ti ringrazio moltissimo Giulia perché è vero che le nostre prassi nei servizi sono connotate tantissimo ancora sia dalla formazione all'attuazione poi di protocolli da queste discriminazioni per cui ultimamente ci stiamo proprio anche sentendo consultando come fare a trasformare qualcosa all'interno della rete dei servizi. Grazie. E grazie anche a Donatella e invece chiamo qui accanto a me i due locali diciamo Giuseppe e Matteo soprattutto perché ci porteranno dentro una realtà che va oltre in questo senso la rete dei servizi sociosanitari istituzionali diciamo ma porta delle risposte nei famosi territori. Buongiorno a tutte e tutti grazie mille Emanuela per l'invito e anche un po' per averci trascinato non siamo tanto a Vezia o a questo tipo di contesti ma devo dire che sono molto contento grazie a Luca di essere qui. Faccio devo dire un po' fatica a questo intervento perché è stata una lunga mattinata piena di interventi veramente molto molto interessanti. Io tra l'altro sono psichiatra quindi anche professionalmente molto molto stimolanti. Inoltre essendo un po' tardi provo a tagliare un po' di parti che avevo pensato in modo da rendere anche comprensibili e accessibili è quello che dirò. Io faccio parte e porto qui l'esperienza dell'ambulatorio popolare autogestito microclinica FATI, uno spazio di salute non nello specifico di salute mentale anche se appunto cerchiamo di evitare come ho sentito dire più volte in questa sala questa divisione tra una salute mentale e una salute che invece non lo è. È uno spazio che ha sede all'interno di un centro sociale occupato da oltre dieci anni. Inizialmente era solamente uno sportello medico, medico infermeristico, nato per colmare un vuoto di fatto perché intorno al 2009 con i primi arrivi di migranti irregolari senza permesso di soggiorno dall'Africa subsaraiana c'era un vuoto completo di accesso al diritto di salute. Ha sempre tentato di non sostituirsi ma di rispondere sì a un bisogno in concreto ma anche di provare ad organizzare politicamente quel bisogno in campagne politiche di rivendicazione dei diritti anche con qualche successo. Lo accenno all'inizio perché in realtà non parlerò di questa parte che comunque rimane una parte attiva importante ma mi concentrerò un po' più sugli aspetti di mutualismo e partecipazione che tra l'altro oggi sono venuti fuori più di una volta quindi mi pare che l'intervento sia abbastanza in linea. Negli ultimi due anni oltre all'ambulatorio medico si è aggiunto un sportello di ascolto psicologico, la Micropsì, che per ora è un progetto un po' separato ma che stiamo provando a integrare nel senso che l'idea vorrebbe essere appunto non che le persone vengano dirottate a un servizio diverso ma provare a rispondere in maniera coordinata e congiunta. È molto difficile anche proprio perché per esempio l'utenza, per usare una parola brutta ma in questo momento non ne ho altre, è diversissima tra chi viene in ambulatorio pur portando magari molto spesso invece comunque dei bisogni di salute più psicologica che è costituito quasi esclusivamente da persone con un background migratorio, donne per lo più, invece chi chiede di accedere allo sportello di ascolto che sono quasi tutti studenti o studentesse del giro più o meno militante tra l'altro, anche questo è un aspetto interessante. L'altro progetto che è partito circa un anno fa e sono molto contento di intervenire dopo le due relatrici di prima perché cade a fagiolo, è una consultoria autogestita che secondo me rappresenta in qualche modo molto di quello che vi vorrei dire oggi, nel senso che è una consultoria costruita in collaborazione con non una di meno e con altri collettivi per i diritti delle persone trans, voluto fortemente costruito in primo luogo proprio dalle persone che poi avevano bisogno, che non trovavano fuori quel servizio, quindi un esempio di co-costruzione che senza perdere di vista l'importanza della presenza di persone della professione, diciamo sono ginecologhe, ostetriche, c'è una chirurga, psicologhe e psicologi, però c'è anche una componente che in realtà poi è maggioritaria che è composta da persone laiche e è molto interessante devo dire la tensione tra chi è portatore, portatrice di un sapere per esperienza diciamo e chi invece porta un sapere professionale, non sempre si riesce ad andare d'accordo però è molto stimolante al di là della professione che si fa, quindi ho partecipato ad incontri in cui erano le persone a raccontare tutto quello che succedeva, avevano subito come violenza ostetrica per esempio, parlando con ginecologhe che quindi riconoscevano in qualche modo nella loro pratica di aver fatto anche loro pur non volendo, pur essendo compagni, pur essendo militanti e sensibili però appunto mancando questi momenti di confronto spesso non ci si accorge di quanto sia in realtà potenzialmente violenta anche una pratica che invece si vorrebbe emancipatoria quindi questo a sottolineare l'importanza della partecipazione anche proprio in, a volte chiediamo solo che ci dicano vabbè di cosa avete bisogno e poi ci pensiamo noi a farlo, invece proprio anche nell'organizzazione e poi nei momenti decisionali. Di fatto quello che si è costituito con la consultoria secondo me è un esempio di comunità curante, che è un po' la base fondamentale del tentativo che facciamo con il nostro ambulatorio. Volevo portare qua due casi di studio, tra virgolette, che però non riguardano la consultoria anche se sono due persone, due donne, che hanno acceduto all'ambulatorio o alla micropsia in quest'ultimo anno e hanno avuto accesso all'ambulatorio e che secondo me rappresentano in due modi diversi, da una parte appunto l'importanza del mutualismo e della partecipazione e dall'altra l'eterogeneità dei fattori che determinano la salute fisica e mentale. Il primo caso che porta è di una ragazza minorenne che non andava più a scuola, la mamma l'ha accompagnata al gabbio dopo numerosi tentativi di portarla da psicologi, da neuropsichiatri infantili, tentativi che fallivano tutti perché lei non si trovava di fatto, quindi non ci andava più, la sentiva come un'imposizione. La prima richiesta era di fare un certificato che le permettesse di non andare a scuola o di non essere bocciata, quindi anche una richiesta che noi peraltro non potevamo ovviamente soddisfare. Però si è creato qualcosa nel tempo e questa ragazza che non usciva praticamente di casa in quel momento ha cominciato ogni martedì a prendere un pullman da barriera di Milano, a farsi circa un'ora di pullman cambiandone uno e ad arrivare al centro sociale in cui con un setting tra l'altro molto informale perché eravamo 3-4 persone maggiormente dedicate a lei ma che magari non eravamo sempre presenti, quindi una volta c'era una persona, una volta c'era un'altra, con cui fare una specie di colloquio diciamo, ma poi anche con una partecipazione proprio di tutto l'ambiente, quindi in questo senso oggi si parlava dell'abbandono, c'è un intervento bellissimo sull'abbandono dei centri di salute mentale, sulla trasformazione in ambulatori, forse ecco dovremmo ritrasformarli in delle specie di centri sociali, centri di salute mentale, questo è un po' un po' di provocazione però secondo me tra l'altro non è così lontana dall'idea che forse Basagliana con cui si sono... l'altro aspetto interessante di questa storia è che poi anche la mamma ha trovato un suo spazio sia di portare una sofferenza sia poi di essere aiutata perché aveva delle questioni legali, delle questioni economico-sociali, al Gabrio c'è uno sportello legale quindi anche attraverso come dire una rete informale mutualistica si è potuto aiutarla in più di una maniera. L'altro caso che porto brevemente e poi concludo è quello invece di una signora che viene dal Marocco, ormai qui da tanti anni, che da diversi anni frequenta al nostro ambulatorio, inizialmente con un fortissimo bisogno di salute, ovviamente aggravato da delle condizioni socio-economiche anche perché se no non sarebbe arrivata qua, cioè da noi, nel senso che aveva dei bisogni di salute che però non poteva permettersi perché l'accessibilità alla salute è un po' lo sappiamo, non è così reale e quindi il primo step è stato aiutarla in questo senso. La cosa molto interessante è che lei, essendo anche, parlando molto bene l'italiano, essendo abbastanza pratica, si è molto attivata sia da un punto di vista individuale in termini di aiutare le altre persone o a trovarci o ancora meglio a conoscere, a diffondere quella conoscenza che avevamo elaborato insieme di dove si può andare, come si fa a chiedere il medico di base, portare le signore dai medici di base e tradurre perché magari loro non parlavano l'italiano, quindi un'attivazione in primo luogo di solidarietà diffusa e anche un'attivazione che noi cerchiamo sempre di stimolare in maniera diversa rispetto alla sostenibilità del nostro progetto, quindi per esempio cucinare insieme per le cene di autofinanziamento che ci servono poi per sostenere le spese dei ticket, le spese dei farmaci, tutto il lavoro è volontario. e quindi come dire un coinvolgimento e un ideale per cui tu partecipi alla tua cura e alla cura della tua comunità come puoi ovviamente, a seconda di quello che puoi mettere, qualcuno metterà il suo sapere medico, psicologico, infermeristico eccetera, qualcuno metterà invece altre forme di sapere. Quindi per concludere, gli ambulatori popolari secondo me hanno un senso nella discussione che stiamo facendo oggi perché sono delle sperimentazioni di fatto, sono nati forse anche sotto segni diversi perché i primi ambulatori nascono ormai due decenni fa probabilmente, rispondendo proprio a una questione più di carenza, cioè servizio sanitario nazionale universale prima o poi lo sarà ma nel frattempo ci sono dei buchi, andiamo a trovarli, organizziamo la protesta su quella cosa lì. Secondo me un po' è cambiata la cosa e oggi rispondono anche a un bisogno di partecipazione, di rifiuto della delega, di insofferenza per quel paternalismo che la medicina e che anche purtroppo il nostro servizio sanitario incarna molto spesso, che poi può portare anche a delle degenerazioni come i fenomeni antiscientifici, il rifiuto completo del vaccino, però che secondo me invece è una cosa sana in una società che si prende cura della propria salute. Quindi ovviamente pur restando il problema enorme, la contraddizione enorme del rischio di tappare dei buchi e della pretesa di sostituirsi che non deve mai essere quella, cioè noi purtroppo ogni tanto lo facciamo però cerchiamo sempre almeno di tenerlo presente che non dovremmo farlo, ma fungere magari da esempio, da piccolo esempio, da catalizzatore, da un mattoncino di una possibile risposta per rivoluzionare anche l'interno del servizio sanitario nazionale, che abbiamo visto oggi a una serie di storture che non sono degli ultimi anni ma che forse dipendono proprio anche da come, sono strutturali, diceva bene l'intervento della Gianni Chedda che mi è piaciuto moltissimo. Quindi, ecco, basta direi. Tra l'altro appunto io lavorando nel CSM e qui chiudo, la sento particolarmente questo bisogno, nel senso che il CSM, il centro di salute mentale, è forse per eccellenza il luogo, l'abbiamo sentito tante volte oggi, in cui la persona è desoggettivizzata, non ha gli stessi diritti, in fondo non sa che ha bisogno di curarsi e quindi per fortuna che ci siamo noi che glielo spieghiamo e che gli diamo dei farmaci e vabbè toglieri pure quegli effetti collaterali 2-3 ma alla fine no? Almeno ti rinseriamo in società. E di, secondo me, ancora di più si vede il bisogno che le persone che portano una sofferenza siano coinvolte nei processi di cura, magari, dicevi, se quando stanno male possono essere coinvolte politicamente, quella è una bella domanda, io non lo so se nell'acuzie psicopatologica, però l'acuzie psicopatologica è una goccia in un mare, per carità, di difficoltà, però è possibile, secondo me, ecco, dobbiamo capire come perché è molto difficile. Però è una bella domanda, grazie, sono stato un po' confuso alla fine, ma spero... Grazie. Grazie moltissimo. Un inciso, permettetemi, un'immagine che non è una metafora ma è la realtà. Io credo davvero che dobbiamo riaprire i centri di salute mentale e avere un po' più di coraggio di farlo. Azienda USL Toscana Sud-Est, Colle Valdelsa, centro di salute mentale, le stanze hanno le sbarre, ovvero hanno le porte chiuse e le finestre chiuse, soprattutto le finestre, perché non si sa mai, i pazienti potrebbero suicidarsi, come si fa se sono in dialogo con me a pensare che una persona possa buttarsi di sotto, scusate la banalità. La mia risposta è stata, non c'è problema, io le sedute le faccio in giardino. Ho fatto davvero così, non è una metafora, è la realtà. Io ho fatto sedute in giardino, ma non lo dico, era solo per dire esempi, perché una situazione equivalente la sto vivendo nella realtà odierna dove la mia scelta è stata, va bene, le faccio in giardino. Peccato che il giardino dove sono adesso è fronte tribunale. Il mio paziente a rischio MAP o comunque diciamo in una situazione di, insomma, diciamo con un problema di spaccio, comunque una persona molto attiva e molto ovviamente idealizzante, certe figure che magari lo sostengono e lo supportano, mi dice dottoressa non c'è problema, facciamo le sedute davanti al tribunale, chiamo i miei amici della nazione e facciamo un bel articolo dove e come la cura per i bisogni di salute anche di noi, carcerati, piuttosto che agli arresti domiciliari, piuttosto che con problemi di salute mentale. Sono piccoli incisi, non è che volevo fare una cosa di così ora sul finale umilmente, ma secondo me anche da dentro i servizi si possono portare delle prassi diverse che poi possono contaminare anche, come dire, nella relazione con quello che ci sta fuori. Poi passo la parola quindi a Matteo e penso molto in continuità con quanto presentato. Senza dubbio, tra l'altro, grazie Emanuele e grazie veramente Luca per tutto il lavoro che avete fatto, che ci ha permesso di essere qui e anche a tutti i relatori prima. Mi scuso invece perché un po' preso dall'ansia della performance, della prestazione, volevo dire tante cose, le dirò. Questo implica il fatto che le dirò molto velocemente, ma tanto sono rassicurato dal fatto che poi ci saranno gli atti del convegno per cui se interesseranno si potranno condividere lì. Il mio intervento non sarà un intervento come quello di Beppe che descriverà delle esperienze pratiche, ne accenderò, ma sarà un intervento che parlerà di alcuni temi, in particolare la psicoterapia, di cui la mia esperienza pratica di vita, militanza, politica e prova a essere una risposta contraddittoria, ma che stiamo costruendo, in parte funzionante. Quindi, Inge, in particolare, a partire da una breve analisi dei mutamenti sociali legati alla pandemia, soprattutto rispetto alla concezione e alla sensibilità verso la salute mentale, provere a mettere in luce alcune delle contraddizioni della psicoterapia o che questa rende visibili, in particolare nel partecipare e insieme a negare la costruzione di una società più giusta e sana. Questo perché la psicoterapia è molto più che un semplice dispositivo clinico, individuale. In questo senso, il termine del titolo del mio intervento, psicoterapismo, si riferisce alle conseguenze della psicoterapia che rischia di farsi veicolo complice dell'esistente, naturalizzandolo, riproducendo disuguaglianze sociali di salute evitabili, che costituiscono la principale barriera per la costruzione di una società capace di tutelare i diritti dei suoi cittadini, anche attraverso politiche intersettoriali e processi partecipativi. Per farlo, a sua volta, vedremo cosa la psicoterapia fa mentre si occupa e dice di occuparsi del benessere di salute delle persone. Ma è per vederlo dovremo prima, a nostro modo, costruirlo, sottraendolo alla invisibilità a cui è condannato. Coperto dalla narrazione che ne offre una rappresentazione patinata, esclusivamente buona e positiva, o al contrario negativa, una merda, e voilà. Per cui, la psicoterapia, partiamo dal contesto, se vogliamo chiamarlo così, la pandemia, o meglio la sindemia, ha mutato radicalmente lo scenario a livello globale in due modi. Da una parte esagerando, rendendo più visibili le precedenti disuguaglianze socio-economiche e di salute, dall'altra riportando la salute pubblica, intesa come bene comune, al centro del dibattito pubblico e politico, richiamiando gli Stati e le proprie responsabilità e accelerando anche la cooperazione a livello europeo nella formulazione di politiche a tutela della salute del corpo sociale, in ottica biopolitica. La sindemia ha inoltre mostrato pubblicamente gli interessi privati degli attori internazionali, ad esempio la gestione dei brevetti... Hai ragione, ma se no non ci sto nel quarto d'ora... Va bene, scusami, tra l'altro stavo proprio... Avevo in mente te mentre scrivevo questa cosa qua che stavo dicendo, per cui questa sindemia ha anche mostrato pubblicamente gli interessi privati degli attori transnazionali, ad esempio nella gestione dei brevetti, ma anche le forze delle comunità locali e dell'interdipendenza, oltre che l'importanza di una sanità presidiata a livello territoriale. In Italia, in continuita con lo scenario globale, la sindemia ha portato un'esplosione dei discorsi sulla salute mentale nel dibattito pubblico e politico, accelerando però anche un trend già presente che aveva portato ad esempio alla proposta dello psicologo più di base in campagna prima della pandemia. Al di là però delle reali condizioni di salute, i media hanno promosso una comunicazione fondata su una narrazione catastrofica e sensazionalistica, il famoso ciclo del panico morale, amplificando le dichiarazioni inquietanti di clinici, spesso psichiatri e psicoterapeuti, che riportavano un aumento della gravità del numero di casi. I primi, i psichiatri denunciando la difficoltà strutturale di un sistema sanitario nazionale che mortifica le condizioni di lavoro a scapito dei paradigmi di cura presenti nei servizi. I secondi invece, gli psicologi, hanno colto nella pandemia un'opportunità imperdibile di riscatto sociale prestigio, verso cui tendere diffondendo termini tipo la psicopandemia, il languishing. È una concezione in cui, usando le parole del Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Psicologi, il benessere psicologico diventa un bene economico e quindi da tutelare. Per cui, in un clima di naturale paura, difficoltà e smarrimento, insicurezze, l'unica granica certezza che ci veniva presentata, che però non poteva ancora basarsi sulla solidità dei dati epidemiologici, era che ci stavamo tutti ammalando. La società era malata. All'assedio del virus e al detenimento delle condizioni di vita, si è sommato una narrazione catastrofica ansiogena, fondata sul moltiplicarsi dei disturbi mentali e sul linguaggio patologizzante dei tecnici, con interessi economici, identitari e di prestigio. La pandemia ha peggiorato le condizioni socio-economiche di benessere di individui, in particolare gruppi sociali e famiglie in condizioni di maggior svantaggio. Tuttavia, è lecito domandarsi quanto l'enfasi possa sul deteriorarsi delle condizioni di salute mentale della popolazione riflette un reale deterioramento, epidemiologicamente significativo della salute mentale, e quanto invece un mutamento della sensibilità pubblica rispetto al tema. Cioè quanto l'aumento dei disturbi è legato ad un aumento della significatività, la sensibilità e un'attenzione da parte dei cittadini e delle istituzioni al tema. Inoltre, col difondersi di questa specifica narrazione, il termine stesso salute mentale sembra aver cambiato radicalmente il significato e platea di riferimento, con effetti tanto sullo stigma e sul rapporto dei cittadini con la propria sofferenza e sulle politiche pubbliche e sociali e sanitarie per rispondere all'emersione di questi nuovi bisogni emergenti. Ma naturalmente i bisogni, come prima discutevamo con Beppe, anche a livello individuale sono codeterminate dall'insieme di narrazioni e dispositivi sociali disponibili in ciascun momento storico. Ad ogni modo, prima della sindemia, parlare di salute mentale significava riferirsi implicitamente soprattutto ai pochi numerosi pazienti con una grave disabilità psicosociale, associati ai cosiddetti disturbi maggiori, alle conseguenze croncizzanti di una carriera psichiatrica in un sistema di cure incapace di assicurare cure dignitose, rispettose e il diritto ad una pia di integrazione nel tessuto sociale. Il riferimento era ai pazienti psichiatrici, al sistema sanitario nazionale, le rivendicazioni legate alla violenza della neomenicomialità e alla coercizione, lontane, escluse e rinchiuse dalla vita quotidiana di più, per i quali il fatto che la salute mentale riguardasse tutti era vero solo teoricamente, idealmente o a metà. Con la pandemia la concezione collettiva di salute mentale muta, diventa saliente per una fascia più ampia della popolazione, si avvicina comprendendola alla dimensione a cui prima ci si riferiva parlando esclusivamente di benessere e qualità di vita. Questo accade in un momento storico in cui le nostre vite sono stravolte. Il rame dei disturbi mentali comuni, ansia e depressione, entra a far parte del mondo della concezione dominante di salute mentale per tecnici, cittadini e politici. Tutti però diventano in questo modo vulnerabili o a rischio, identificandosi in potenziali pazienti. I problemi di e della salute mentale ora riguardano realmente e potenzialmente tutti, accorciando le distanze tra chi è sano e malato, diminuendo lo stigma e questo potrebbe essere un'opportunità. Ma nell'esperienza vissuta, mutata concezione e mutata percezione di ciò e chi viene ritenuto sano e malato, sano o malato, si amplificano con effetti dell'identificazione soggettiva e collettiva con le categorie disponibili, sempre storicamente determinate, di sano, malato, sofferenza, cura e l'insieme di appartenenze che anche queste rendono possibili e le rivendicazioni. Così vengono cercate e create, scusate, vengono cercate cure e risposte e rivendicate politiche soprattutto sanitarie in risposta a motivi e bisogni percepiti come sanitari e psicologici a tutela di una società percepita e dipinta non senza interessi psichicamente malata. E qui forse mi sto avvicinando alla psicoterapia. Nel libero mercato per cui le domande di aiuto e supporto aumentano insieme all'offerta, forse un po' anche guidate da questa, di piattaforme digitali e consulti psicologici e applicazioni per la salute e il benessere, proprio mentre il sistema sanitario nazionale prova a riorganizzare, seguendo un po' le indicazioni della e-health e della telematizzazione in questo clima. In questo clima, con i servizi pubblici piegati da anni di sottofinanziamento, dopo la pandemia, Speranza esituisce il tavolo benessere, distinto dal tavolo tecnico della salute mentale e il numero verde di assistenza telefonica psicologica. Dopodiché, accogliendo le rivendicazioni, la prima eroga, poi rifinanzia il bonus psicologo, che non senza legittime preoccupazioni critiche, sostiene le spese relative a sessioni di psicoterapia nel libero mercato, che in Piemonte coprirà 3.500 delle più di 15.000 domande giunte, ma queste domande sottolineano sì un parte il bisogno, ma anche e soprattutto le barriere che ci sono alla soddisfazione di quel bisogno e al riconoscimento di quel diritto. Per cui la comunità dei psicoterapeuti, psicologi e medici, pur fornendo una risposta ai bisogni emergenti di una fascia sempre più ampia, seppur privilegiata della cittadinanza, a parte qualche eccezione, non si è dimostrata matura nel partecipare al contrasto di queste barriere per la costruzione di una società più giusta e sana, anche in termini culturali, né per la tutela di una salute mentale intesa come bene comune, se non nella misura in cui accresceva il proprio prestigio. Ad esempio, il disagio psicologico cresce con lo svantaggio sociale, è un fattore di rischio per disagio e disturbi, maggiormente distribuiti lungo un gradiente nella parte più bassa del corpo sociale, con maggiore difficoltà socioeconomiche. La psicoterapia è distribuita in maniera inversa rispetto alla distribuzione del dosaggio, più disponibile e accessibile per chi ha un reddito maggiore, inteso come indicatore di classe, meno per quella fascia che ha un reddito minore e una maggiore probabilità di ammalarsi, dove maggiormente si concentra il carico di disagio di una società, non la famosa inverse care law. Ma a questa scarsa accessibilità legata alla distribuzione disugale, che la connota come una pratica e un dispositivo non democratico, si sommano gli effetti differenziali tra gli individui appartenenti a classi diverse che hanno beneficiato meno di un percorso psicologico, gli effetti sulle loro traiettorie sociali, come conseguenza di un'acquisizione o meno, durante e grazie al percorso, di una maggiore sicurezza, strumenti, risorse e capacità. C'è un effetto, se vogliamo, preventivo rispetto alle conseguenze sociali del disagio, spesso implicato in un meccanismo di mobilità discendente che amplifica le disuguaglianze sociosanitarie. La psicoterapia, qui intesa, non è un trattamento tecnico che neutralizza la malattia, ma è uno strumento sociale che distribuisce o meno risorse a seconda della classe. La dotazione di risorse, strumenti e libertà influendo sulle traiettorie sociali, accelerando e contrastando le disuguaglianze. Entrambe questi aspetti, relativi all'impatto della psicoterapia sulla stratificazione sociale e quindi alle sue conseguenze politiche, si generano con una conseguenza della sottorrappresentazione della psicoterapia nel sistema sanitario nazionale e nell'influenza del libero mercato sul dispositivo, dalla formazione alla regolazione, dato che inevitabilmente costituisce la psicoterapia come un veicolo del libero mercato da cui è veicolata e di rappresentazioni mercificate di salute e benessere. Un po' di questi problemi sono affrontate e costituiscono ingredienti fondamentali di alcune esperienze, pratiche collettive di cura e mutualistiche che contemplano in maniera differente il bisogno materiale di reddito degli operatori con l'attivismo, producendo interventi capaci di prendere in carico anche i bisogni sociali degli individui nei loro contesti di vita, azioni collettive di salute comunitaria e azioni sui contesti di vita e strutturali, azioni politiche da livello territoriale a quello globale. Per cui nel clima di questa maggior sensibilità aumenta anche la produzione sia culturale che scientifica sulla salute mentale e sulla psicoterapia che la dipingono in maniera differente. Dai Ferragnez alle serie tv che ne dipingono un'immagine sempre buona, un po' patinata, si giustappone l'immagine meno diffusa ma più sfaccettata della produzione scientifica, ad esempio le consensus conference dell'Istituto Superiore di Sanità a cui ha preso parte anche Angelo Barbato che prego di intervenire se dico delle castronnerie. Fondamentali per lo sviluppo delle politiche sanitarie le consensus erano sulle terapie psicologiche per ansia e depressione. Le consensus oltre alla discriminazione di censo e al problema nella formazione accademica e professionalizzante privata sottolineano la diffusione prevalente di interventi di dubbio o scarso efficacia. Da una parte questo determina uno spreco di tempo e denaro per i cittadini che accedono nel mercato privato ma la posta in gioco reale sono le pratiche di cura prevalenti offerte all'interno dei servizi che in questi momenti sembrano indirizzate verso altri tipi di interventi, soprattutto quelli farmacologici. I dati sui consumi parlano abbastanza chiaro, adesso Angelo Barbato ne ha già parlato, aveva subito tanto il fatto che il primo anno di epidemia gli antipsicotici erano stati i farmaci con un maggior aumento delle prescrizioni nella popolazione pediatrica e dato positivo che prima diceva Beppe, l'ultimo rapporto sul consumo dei farmaci certifica una diminuzione del consumo delle benzodiazepine tra il 2021 e il 2020 e è la prima volta in quel trend che difingeva che comunque rimane invariato, c'è un aumento del 5,2% dal 2015 al 2021. Il farmacologico di Casse C a carico di cittadini con maggior spesa. Comunque di fronte a questi trend qua la diffusione di interventi di scassa o dubbio efficace è causa e conseguenza delle difficoltà della psicoterapia che non riesce a costituirsi come leva di cambiamento di un sistema, di un paradigma arricchendo l'offerta di cure di un sistema sanitario nazionale talvolta violente, cronicizzanti, non sempre rispetto ai diritti e che tutelano il diritto alla salute attraverso pratiche ipermedicalizzanti in assenza di un consenso realmente informato o della costruzione di percorsi terapeutici. Per via dell'elevato rischio di inappropriatezza queste pratiche rappresentano a tutti gli effetti un problema rilevante evitabile di salute e sanità pubblica che va governato però in qualche modo o perlomeno sollevato. Questo accade paradossalmente accanto a interventi di efficacia comparabile per ansia e depressione che evidente molto robuste indicano essere oggetto di preferenza dei pazienti rispetto a quelli farmacologici in un rapporto da 3-1. Ora però le preferenze dei pazienti non sono una questione... devo chiudere... oh mamma mia... quindi... le preferenze dei pazienti sono una cosa importante, hanno un ruolo. Questa roba qui delle evidenze mette in luce una doppia anima della psicoterapia che è difficile tenere insieme. L'anima che nutre e si nutre il paradigma scientifico è quello che nutre e si nutre un paradigma umanista. Paradossalmente sono proprio le evidenze che dicono che il fattore curativo della psicoterapia è la relazione, però il fatto che sia proprio la relazione rende molto difficile creare quei protocolli di studio-intervento che sono necessari per la costruzione di evidenze molto robuste e di costo efficace, costo utilità che permettono poi di indirizzare le politiche sanitarie. Se non è l'efficacia reale che funziona che cos'è? Quella che in antropologia si chiama efficacia simbolica, un po' in maniera non troppo dissimile dalle medicine complementari, è un'efficacia simbolica che si fa nella relazione e che parla dei simboli e della cultura di una comunità, più o meno condivisa. Nel fare questa cosa qui la psicoterapia tendenzialmente è efficace simbolicamente nello spazio della relazione anche perché risponde a due bisogni collettivi. Il primo è un bisogno umano di riconoscimento generato in un mondo disumano, strutturalmente violento e la psicoterapia tratta, ma non è che tratta i disturbi, semplicemente tratta le persone rispettosamente, diversamente talvolta dai servizi. Il secondo bisogno è un bisogno simbolico, di senso, squisitamente umano, quella roba lì del ricco, pulento, occidente, povero di senso, che ha a che fare con la caduta delle ideologie e tutta questa roba qua. Che però è una funzione sociale talvolta esercitata dalla psicoterapia. Come la esercita questa funzione di aiutare le persone a dare un senso? lo fa in un modo che spesso mantiene l'esistente, in sintonia con la norma esistente, in sintonia con il sistema socio-economico. E soprattutto enfatizzando la complice indigeribile etica della compassione e della neutralità, che è una roba che, diceva Castel, per cui sono sempre riconoscente a Luca, lo psicoterapeuta netto è socialmente neutralizzabile, è tecnicamente neutralizzato da loro che si impone, è praticamente neutralizzante. Questo vuol dire che dobbiamo smetterla di introiettare ciò che la psicoterapia fa nella sua relazione, che questa etica della cura, ideologia della cura, volemo se bene, ma sì come lo senti, devo sentire un problema mio, devo cercare prima me, ritrovare me stesso, perché questo è un qualcosa che ci disabilita a livello politico. Grazie a entrambi, chiamo Luca a fare l'intervento finale. Un piccolo inciso, spero rapido, ma perché secondo me traccia anche le traiettorie di tipo politico. L'ordine degli psicologi della Toscana nel 2004-2005 promosse per primo la psicologia di cure primarie insieme a Mario Bertini per legittimare l'idea che si trattasse di salute psichica come bene, ma non bene nel senso economico fino a se stesso, ma come dimostrabilità di un bene verso cui tendere, quindi da pil a BES, per cui poi si è dimenticata la storia, si è dimenticata, si è scordata strumentalmente, non mi interessa a livello personale, ma a livello politico è fondamentale ripristinare quell'idea che noi dobbiamo stare nella lotta, che assolutamente cerchi di riattivare delle risorse sul territorio, anche quelle dei servizi sanitari nazionali, regionali, perché è lì che le persone poi si rivolgano. Poi si possono attivare anche delle prassi di mutualismo, ma non dimentichiamoci che dobbiamo dimostrare che la psicoterapia non ha un'efficacia simbolica, ha un'efficacia reale, in alcuni casi anche quella legata al senso, ma il senso è qualcosa di concreto, è misurabile riduzione della spesa del farmaco, miglioramento della qualità di vita, non voglio dilungarmi in questo, ma era per riprendere un discorso anche di tipo politico che va al di là delle caste e delle logiche di tipo corporativo tra professionisti. Solo una notizia pratica, il cibo è arrivato, nel senso c'è, per cui vi invitiamo a fermarvi, i relatori ovviamente sono nostri ospiti, i contenitori per un discorso giustamente riduzione dei rifiuti sono riutilizzabili, per cui non portateli via e non buttateli, per gli altri, noi proponiamo 15 euro, ma se uno non ce li ha, vuole dare un'autoscrizione non c'è problema, anche perché abbiamo dovuto chiedere un tot di pasti, vediamoli giustamente, di farli fuori. Grazie. Grazie a te il compito che è stato. Il compito durissimo, comunque magari alcune delle cose che ho in mente poi le svilupperemo nel gruppo di lavoro, perché anche quest'ultima discussione chiaramente ha messo in luce i problemi delle epistemologie che ci sono, dal punto di vista di un progetto mutualistico che individua queste cose. È interessante per riflettere su come l'epistemologia anche della psicoterapia dovrebbe cambiare nei servizi pubblici, se si entra in un'ottica di salute pubblica, però io so che non riuscirò a dire tutto quello che devo, quindi ma non fermami quando è il momento, tanto poi nei gruppi di lavoro pomeridiani magari approfondiremo alcuni temi. Io ho preso l'ambito della salute mentale come prisma per riflettere un po' in generale su alcuni temi che riguardano la salute pubblica, la sanità, ma soprattutto i movimenti e la possibilità di sentirci in una fase politica di attacco, in cui possiamo condurre un attacco nell'ottica di movimento, perché il mio titolo di questo intervento era questo. Io sono partito da questa domanda, com'è che dopo due anni e mezzo di pandemia o sindemia la destrutturazione del servizio sanitario è sempre più evidente e anche l'attacco complessivo che stanno subendo i temi del welfare, della cura, della riproduzione sociale, non è emerso in Italia un movimento unitario capace di tematizzare la difesa del servizio sanitario pubblico ma anche la riformulazione della salute in senso relazionale, come ci hanno detto le esperienze mutualistiche, è anche estendersi in generale al legame tra il benessere, la salute della popolazione e la necessità di porre un freno alla logica del profitto, quindi all'ordine capitalista. Come mai non è emersa questa cosa qua? Ho detto, e soprattutto se sono emersi degli elementi di dibattito noi che siamo qua, ma non c'è stata una quotidiana mobilitazione nazionale di piazza che coinvolgesse, facesse convergere, come si usa dire oggi, vari soggetti e che incidesse sull'esistente. Perché non c'è stato? Il ragionevolezza? Forse no. Ho provato a delineare un po' quelle che io vedo come problematiche. Prima di tutto c'è un'incapacità di lettura della composizione tecnica, della composizione sociale di ciò di cui stiamo parlando e quindi anche di elaborazione di strategia. Non riusciamo a mettere in un orizzonte unitario i temi della riproduzione, del welfare, del reddito insieme alla salute e la sanità. Non riusciamo e quindi non riusciamo a superare la frammentazione che attraversa questo sistema. Se noi ci pensiamo ai lavori, i lavori nella riproduzione sociale, i lavori di cura sono estremamente frammentati da ordini con grossi interessi di parte, grossi interessi corporativi, gruppi professionali, a un'infinità di lavoro nascosto, sottopagato, genderizzato, invisibilizzato, razzializzato. Questi sono i lavori della riproduzione sociale e questa frammentazione ci impedisce di essere movimento che possa essere d'attacco e vincere. E' questa frammentazione che non vediamo. E nella salute mentale questa frammentazione non è solo della composizione tecnica, ma è la frammentazione istituzionale. Quando Angelo Barbato faceva vedere la prescrizione di antidepressivi, non sono mica tutti prescritti nei servizi di salute mentale, anzi è pochissima la parte di quelli che sono. Quindi anche come è frammentato il nostro rapporto con l'oggetto sanitario, no? E non riusciamo però a leggerlo complessivamente. La questione è che se non riusciamo a fare questa analisi correttamente, tenendo saldo l'orizzonte delle questioni, non riusciamo a trovare una strategia. Quindi la debolezza dei movimenti e l'incapacità politica è che sono frammentati e ciascuno agganciato a una rigidità identitaria nella tattica utilizzata, nelle singole tattiche utilizzate, piuttosto che a una valutazione dell'efficacia delle strategie adottate per incidere sulla realtà, che è il grosso problema. E poi vediamo che questo si produce in moltissimi effetti, no? Io sono qui, quindi come tattica mi sento abbastanza a mio agio e poi invece vediamo tutte le altre che sono piene di ambiguità, processi di cooptazione, no? Soluzioni progressiste ma che in ultima analisi si risolvono in compatibilità col sistema, ma che appunto abbiamo visto anche in salute mentale tutta una serie di tecnici consulenti tra ministero e commissioni parlamentari che hanno realizzato quelle forme compromissorie di partecipazione. Ma perché non abbiamo una strategia che consenta di rimettere in discussione queste differenziazioni di tattiche diverse? Perché io posso discutere con Maria Grazia, posso discutere con le compagnie e i compagni che sono al ministero a fare consulenza in un'ottica che io ritengo sbagliata, ma dobbiamo elaborare una strategia credibile e convincente e secondo me è quella cosa lì dell'orizzonte della riproduzione sociale. E che cosa vediamo? Poi che cosa producono invece le ambiguità che noi critichiamo ma con cui noi vogliamo discutere? Un'idea di territorializzazione senza conflitto, territorio senza redistribuzione e l'integrazione sociosanitaria fatta dall'alto. Io ho studiato il budget di salute, è una forma di integrazione sociosanitaria fatta dall'alto, quindi misura meramente amministrativistica, perché non è ricollegata a una strategia politica totale. Quindi, Manuela quanto tempo ho? Cinque? Posso andare? Allora, invece, se noi ragioniamo sulla necessità di essere in movimento, quindi una strategia politica efficace, è chiaro che quello che vediamo è che le identità, le rigidità tattiche si modificano, si fluidificano anche i saperi e la loro produzione. Oggi una cosa è mancata dalla discussione, si è detto, dobbiamo tornare a guardare le pratiche, e sono molto d'accordo, ma non si è detto chi fa ricerca. Se esiste la possibilità politicamente di fare ricerca emancipatoria, quindi con le persone direttamente coinvolte. E questo, secondo me, è un punto su cui bisogna discutere. I riferimenti teorici in cui stare, chiaramente, a noi sono chiari. Io li richiamo perché, secondo me, è una buona sintesi di quello che è stato detto oggi. L'ecologismo e il transfeminismo ci hanno, secondo me, fatto a prendere due questioni fondamentali, cioè l'intersezionalità, in forma di opposizione, razzializzazione, classe e genere, perché, chiaramente, come è stato detto in una piazza qualche settimana fa, va bene rappresentare il diritto all'aborto, però se poi la pillola viene messa a pagamento, è la pillola anticoncezionale, allora stiamo rappresentando dei diritti, ma delle persone delle periferie, ce ne siamo dimenticati. Questo è stato detto in piazza, giustamente, due settimane fa, tre settimane fa. L'interdipendenza, tutta la retorica dei servizi di salute mentale sull'autonomizzazione, è una retorica meramente neoliberale e individualistica. Invece, il transfeminismo e l'ecologia politica ci ricordano oggi che invece il tema è l'interdipendenza. Ma anche delle cose nuove che noi non vediamo, sempre in salute mentale, è un bel prisma per vedere cosa dovremmo fare a livello di movimento per avere strategie credibili. Il rapporto con i med studies o con i critical disability studies in Italia non c'è assolutamente. I med studies invece nei paesi in cui la workferizzazione neoliberale ha già devastato i servizi, a partire dagli anni 90, come in Inghilterra. E nel pieno di retorica recovery oriented, le teorie, le ricerche critiche delle persone designate MED, quindi a partire da le persone che usano i servizi, hanno smascherato queste retoriche. Oggi noi siamo invece in Italia in una situazione in cui la vecchia guardia che viene dalle buone prassi progressiste per resistere, per influenzare, si, come dire, arroccata dietro la difesa, dietro la bandiera recovery, che sembra la cosa più progressista. Fuori dall'Italia questa retorica è stata smontata dai movimenti come retorica neoliberale. E noi non lo sappiamo. Il rapporto con i disability studies, anche questo dal Regno Unito, ma non solo, tutti quei movimenti di persone disabili che sono arrivate anche a far approvare all'ONU la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, che hanno costruito dei saperi alternativi anche sul tema della salute mentale, agendo vere e proprie forme di depsichiatrizzazione. In Italia si sta iniziando a fare con l'autismo, per esempio, grazie ai movimenti di persone neurodivergenti, che molti di noi potrebbero vedere con sospetto, perché questo suffisso neurodivergente sembra accettare la retorica che Angelo Barbato ci ha spiegato, che è fallace, che invece è stata promossa negli anni 90. Ma in realtà andare a vedere il dibattito dei disability studies ci mostra che invece è una... è fatta in un altro modo, che noi in Italia non capiamo perché non abbiamo quella cultura, che è una forma di depsichiatrizzazione, di depatologizzazione. Dico giusto due cose sulle alleanze, perché il movimento deve pensare alle alleanze, quella con le ambiguità dei nostri compagni e compagni che sbagliano, che stanno facendo i consulenti, l'abbiamo detta, ma dobbiamo discutere, ecco, con il mutualismo dobbiamo discutere per capire se veramente si può fare un'epistemologia diversa nei servizi e non questo territorio, questa integrazione sottosanitaria gestita dall'alto, ci sta lottando per il welfare pubblico, ci sono, c'è il sindacalismo di base che nel lavoro sociale si sta ponendo il tema dell'internalizzazione dei servizi e lo sta facendo sulla base che da vent'anni, negli ultimi vent'anni, le condizioni di lavoro di chi fa il lavoro sociale nelle cooperative nel terzo settore sono condizioni insopportabili e sarebbe bello che Medicina Democratica andasse in questi luoghi di lavoro come 40 anni fa si faceva nelle fabbriche, come si fa nelle lotte ambientali per vedere qual è la condizione di lavoro di queste persone che stanno nel terzo settore a portare avanti questi servizi e stanno iniziando a lottare, ad esprimersi sulla internalizzazione, chiedono di diventare pubblici, chiedono di rientrare nel servizio pubblico e noi dovremmo avere l'intelligenza e l'attenzione per dirimere e distinguere. Qual è stato il terzo settore che in questi ultimi 30 anni ha portato forme di emancipazione, ha creato nuovi saperi, ha creato di deistituzionalizzare il servizio pubblico perché ce n'era bisogno e qual è stato invece quello che ha solo funzionato da vettore per la dismissione del servizio pubblico noi dovremmo essere capaci di discrimine e magari ci troviamo che la stessa persona fino al 92 ha fatto una cosa e poi ha iniziato a fare un'altra e quindi noi dobbiamo stare in queste lotte con intelligenza per capire questa discriminazione e spingere su questo quindi portare la battaglia nel terzo settore. Rispetto all'alleanza, io vedo in questo momento questo tema è sapere che come diceva Maccacaro in un intervento a Modena uno può denunciare il problema ma bisogna cogliere in atto il processo, non basta denunciare il problema, quindi bisogna stare dentro queste lotte, dentro questo ambito. Io dico ricostruire un orizzonte complessivo che riguarda salute, welfare e riproduzione sociale perché noi parliamo, le categorie professionali i medici, le categorie professionali del sanitario sono una piccola parte di un oceano di invisibilità di lavoro sfruttato e noi questo dobbiamo tematizzare e secondo me con questa ipotesi di orizzonte forse si può ricostruire un'idea, una strategia di movimento che funzioni. Grazie Luca e soprattutto grazie a tutte e tutte le persone che fino ad ora ci hanno ascoltato, hanno interagito e invitiamo chiaramente poi a partecipare ai lavori di gruppo per le persone che saranno interessate a contribuire anche a questo gruppo in particolare. Volevi Maurizio? È tardissimo, non un intervento ma una richiesta. Tutti gli interventi stamattina hanno parlato delle difficoltà che gli operatori del settore incontrano nello svolgere la propria professione. ed è sicuramente il punto cardine del dibattito. Ma qualcuno ha anche accennato alla necessità anche in questo settore di fare prevenzione. Ecco, rivolto al gruppo di lavoro al quale io non parteciperò perché sono in un altro, mi piacerebbe che Medicina Democratica si pronunciasse anche sul fatto che in questi due anni non siamo riusciti a fare prevenzione. per cui voi nel prossimo futuro avrete migliaia di nuovi clienti, i giovani che sono stati tenuti chiusi in casa, che non hanno potuto socializzare, frequentarsi, conoscersi, crescere, interrogandoci anche se è stato giusto o meno costringerli a questa misura che secondo me è stata una pura e semplice cattiveria nei loro confronti. Vi ringrazio. Sicuramente sono tutte sollecitazioni da prendere in considerazione. Il taglio volutamente era oltre e al di là di quello che succedeva già prima della pandemia o meglio della sindemia e anche oltre nella prospettiva futura, poi magari nel dibattito e nel confronto-scontro ci entreremo anche nel pomeriggio, chiaramente ciascuno nei suoi ambiti, ma ricordandoci che siamo tutti interconnessi e non siamo per la settorializzazione della salute mentale. Grazie.